Benvenuti, benvenuti di martedì, tanti ospiti questa sera, Pierluigi Bersani, Michele Santoro, il generale Vannacci, Leo Gullotta, iniziamo tra pochissimo. Benvenuti di martedì, benvenuto a Leo Gullotta, un grande piacere averla con noi, è pronta anche Pierluigi Bersani, pronti Luca e Paolo, un minutino e cominciamo. Allora, cominciamo da un grande attore, da Leo Gullotta, grazie per aver accettato il nostro invito, intanto Luca e Paolo si preparano, così ci scaldiamo. Le piace il governo Meloni? No, assolutamente. Perché no? Così netto. Io sono un cittadino di 78 anni che esprimo le mie opinioni di quello che vivo, io ho vissuto tutti questi miei anni, anche politicamente del paese, con problemi, ma pesanti come questo periodo mai. E' una donna intelligente, una donna furba, ma è attorniata, lei non ha fatto i conti con il suo passato, è attorniato da fascisti in tutti i sensi, non vuole assolutamente conferenze stampa, vuole comandare, vuole avere il segno del comando, fa nascere un vespaio. Non sappiamo nulla, non si è mai sentito parlare di posti di lavoro, di sanità, di mafia, è impossibile allontanare ogni cosa in questo modo, cutro, che fine ha fatto cutro? Non si sa niente, non si deve sapere niente. Lei quindi con fascisti non intende pronti a togliere la libertà, ma degli atteggiamenti nei confronti della differenza. Anche, 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 questo per me è discutibile, però anche come... Cioè lei dice che rischiamo la libertà? Ma, insomma, delle cose sono state vietate, a cominciare dall'atteggiamento che hanno verso i giovani, le manganellate, per poi raccontarla, l'abbiamo saputo con queste elezioni, con Marsilio ci ha ricordato che l'Abruzzo è circondato da tre mari. Mi sembra il segnale di una mancanza di futuro, non so come dire. Ma allora come si spiega che vince? Ma è facile, i discorsetti per allontanare, diciamo, le voglie, abbiamo dei problemi. Tant'è vero che c'è l'astenzione, quindi non viene... non mi devono raccontare che la gente va... l'astenzionismo è un problema pesantissimo. Questo vuol dire che tantissime persone non amano questo governo. Senta, sa cos'è? Non amano questo governo, ma non si fidano dell'opposizione a questo punto. Certamente l'opposizione ha dei torti, dei grandi torti, però con la Sklein sta tentando di arrampicarsi su questa cima e portarci qualche cosa. Questo accade. Persone come Bersani, appunto, che sarà ospite suo tra qualche secondo. Che ci ascolta. Lo vorrei vedere sempre, ma è un uomo straordinario, un politico fantastico, ci ha insegnato tante cose, ci ha fatto vedere tante cose con la realtà. Allora, aspetti però, perché non può passare che vi parlate solo voi due. Lei ora rimane con noi per tutta la puntata, si confronterà anche con chi la pensa diversamente. Noi come sempre insieme a Luca Paolo. Certo, il dialogo è molto importante. E ci vediamo a breve. Grazie, grazie. A lei. Anche quest'anno c'è stato l'8 marzo, la grande festa di tutte le donne, e finalmente si sono dette cose nuove, non so, tipo... Nuovissime, con le donne senza se, senza ma. Bella, bella questa, oppure aspetta c'è un'altra. Ah, questa qua è gettonatissima, la festa delle donne è ogni giorno. Sono 47 anni che c'è la festa delle donne, e per le donne è cambiato un... Il prezzo della mimosa, credo. È cambiato il prezzo della mimosa, ecco, non mi veniva, non mi veniva. Il resto, le disuguaglianze sul lavoro e fuori, tutto uguale. Ma vuoi approfittare per fare un bel augurio alle donne? Tra tutti gli auguri alle donne abbiamo scelto quello del ministro, Salvini. Anche perché settimana scorsa non aveva schiacciato, ma nemmeno una merdina avrà avuto l'influenza, probabilmente. Ed ecco i suoi auguri alle donne. Auguri a tutte le donne in Italia e nel mondo. Ecco, un orrendo fotovontaggio con sfondo tipico abruzzese. Eh sì, dove hanno candidato un maschio. Io guardavo questa foto, aspetta, rimettila Alessandro, rimettila. Perché guardavo questa foto, no? E mi sembrava di tornare bambino. Eccola lì, guarda. Ti ricordava qualcosa? Ma quanto pesa tanto quella mimosa che deve tenere con due mani. Ma poi l'illuminazione. Ecco cosa mi ricordava quella foto. Questa cosa qui. Tonno insuperabile. 170 grammi di bontà in olio d'olino. Senti, il profumo di Liguria, di Genova. Ed è proprio nella nostra terra che si è fatto un atto coraggioso e finalmente concreto per le donne. Ecco. Le polemiche a Genova contro i tre nuovi gusti di gelato per l'Ottobarzo. È successo che Comune e Regione hanno avuto la brillante idea di coinvolgere tre gelaterie e far fare tre gusti nuovi, rigorosamente rosa, a favore della donna in occasione dell'Ottobarzo. Dici, vabbè, è una cagata, speriamo passi l'osservata. Invece no, si sono messi lì, hanno fatto pure la conferenza stampa. E le due assessore, che si è fatto chiamare assessori, tra l'altro, hanno voluto dire la loro frasetta, ognuno la sua. La prima è Francesca Corso, che ha tenuto a dire... I tre gusti di gelato sono una lodevole iniziativa che accende i riflettori sulla parità di gelato. Accende i riflettori sulla parità di gelato. Ora, dire, sta frase rimanendo seria, brava. Cioè, i tre gusti che accendono i riflettori. I tre gusti smelch e guanno a tre punti. Accendono i riflettori. A questo punto l'assessora del Comune ha voluto dire la sua invece sul cono rosa. Ed ecco le belle parole di Simona Ferro. Anche un gesto semplice come mangiare un gelato diventa l'occasione per riflettere sul significato dell'8 marzo. Allora, Loris, leccare un cono rosa pensando alla condizione della donna. Tu non sai alle volte quanto è difficile non fare la battuta. La facciamo? Non la facciamo! Non ci tentare, non ci tentare. C'è comunque qualcuno che si è sbarcato dalla retorica dell'8 marzo. Qualcuna che ha saputo uscire dalla, come chiamarla, dalla brand reputation, dalla festa della donna. Stiamo parlando di Daniela Santankation la sera dell'8 marzo. Ha postato un video e tu dirai, come la sera? Gli auguri non si fanno la mattina. Appunto, disorientation proprio. E infatti il video recita così. Voilà. Ciao amiche, è un po' tardi per farvi gli auguri, vero? Ma è voluto. Ho pensato tutto il giorno se fare un video di auguri per la festa della donna. Tutto il giorno? La verità è che non lo volevo fare, perché non mi piace. Non lo volevo fare, però l'ha fatto. Non le piace, non le piace, hai capito? Ho pensato tutto il giorno se fare questo video. Ma l'ha anche scritto. Sì, sì, l'ha scritto, vuol dire che la giornata dell'8 marzo un nostro ministro l'ha passata così. Ma lo faccio il video o no? No, non lo faccio. No. O forse sì. Forse sì. Dai, lo faccio. No, 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 no. Mi si nota di più se lo faccio o se non lo faccio. Collaboratori fuori dalla porta. O forse dico lo faccio e dico che non lo volevo fare. Collaboratori fuori dalla porta con dei decreti legge da firmare, richieste urgenti. Cosa starà facendo? Chiusa lì dentro da 12 ore. Lei è lì che pensa, ma lo faccio. Alla fine l'ha fatto. L'ha fatto. La giornata è in tira di lavoro per fare due minuti di video. E dirci che non lo voleva fare. Neanche in me contro a te ci mettono tanto. Sulla festa della donna ha voluto dire la sua anche l'ex senatore Pilon. Espertissimo di donne. L'ex senatore ultracattolico Pilon ha postato sui social questo messaggio. Viva le donne, quelle femmine, quelle vere, quelle XX. Che cosa vuol dire in italiano? Le donne, quelle femmine. Poi aggiunge, diffidate delle imitazioni. Con tutto il rispetto. Ricordiamo che il 100% delle frasi che mancano di rispetto cominciano con tutto il rispetto. E Pilon poi insiste. Penso che un maschio, quando si trucchia o si travesta, non potrà mai eguagliare una donna. Ecco, c'è scritto così. Poi scritto così, con questa formula qua, a me ricorda solo una cosa. Le recensioni di Escort Forum. Lo sai cos'è Escort Forum, Floris? C'è l'appodamento premium a Escort Forum. Lo sai, è sicuro. In effetti, il commento di Pilon tradisce una frequentazione. Chissà se avrà mai scritto... Mi sono divertito, per carità, ma per quanto si sia impegnato, non ne ugualerà mai una donna femmina. Esatto. È stata una festa della donna particolare, anche perché per la prima volta, maggioranza e opposizione, hanno leader donne. Esatto. E proprio l'8 di marzo, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, lancia un durissimo attacco a Ellie Schlein. Ma proprio duro, duro. Schlein, eppure senza carbonare, si faccia con la guanciale o con la pancetta. Hai capito? Parole durissime, eh? Ma poi rincara la dose. Non distingue dal rosticino abruzzese con raclette svizzero. Se fosse vero, credo che la Schlein dovrebbe dimettersi, ma immediatamente... Traballa, eh? Rampelli, ricordiamo, è quello che propose la multa di 100.000 euro per chi usa vocaboli inglesi. Infatti, nella stessa frase ha detto anche... Passando in modo patetico dall'internazionalismo al radical chic. Aia! Radical 100.000, chic altri 100.000, con 200.000 euro sai che carbonara ci scappa. Non è stata solo la settimana della festa della donna, ma quella in cui, ecco, la politica ha anche affrontato la questione d'ossieraggio. Attenzione. Sì, un tema così serio che è arrivato in commissione antimafia. Eh, vedi, vedi. Solo che durante l'audizione di un parlamentare si è dimenticato un microfono aperto. Sì, tu dirai, Floris, ci sarà sentito lui che litiga con la moglie. Eh, Paolo, cioè, forse la moglie c'è, ma non stanno litigando. No, no. Vabbè, adesso... Sentiamo. Io l'ho visto 30 volte e continuerò a ridere, non lo dico. Ok, ok, sentiamo. Lei ha detto, se non ho capito male... E fin qua. ...che chiaramente la quantità enorme di dati che sono stati... Ah, che è successo? No, aspetta, era con la moglie. ...imropriamente diffusi. Mi hanno fatto pace. Sì, stanno facendo pace. Sì, stanno facendo una. Oh, eh, questa è proprio pace. Questa è proprio pace. È importante. Eh, sì, evidente. Staverebbe un dito in politico. Non si potrà più dire che i nostri politici se ne stanno con le mani in mano. Ecco. Ma chiudiamo col voto in Abruzzo. La sorpresa più grossa è che per il risultato definitivo non si è dovuto aspettare tre giorni, come al solito. Sì, e alla vigilia l'esito sembra vincitato. Addirittura, all'inizio, le tivoprozzesi davano qualche speranza al centro-sinistra. Mentre Ceccherini e Ferilli sapevano già che avrebbero vinto gli ebrei, come al solito. In realtà è una vittoria schiacciante del governatore uscente. Per il campo largo non si mette benissimo. Eh, sì, e su X, l'ex Twitter, Ultimora.net, fa notare che i precedenti dell'alleanza PD-Movimento 5 Stelle non sono proprio così vincenti. Eh, no, no. Umbria, Liguria, Calabria, Lombardia, Friuli, Molise, tutte sconfitte. Tutte sempre. Hanno vinto solo in Sardegna. Ma chissà perché. Ma forse avevano un alleato in più. No, in Sardegna ne avevano uno in meno. E chi? Carlo Calenda. Il fratello con lo intelligente. È lui la talpa. Ma Calenda ha un'altra idea per fare perdere il centro-destra. Lui ha pensato, se non puoi batterli, alleati con loro, così perdono. Sì, il miraggio di Calenda con gli americani. Io al posto di Salvini, prendo il 7% e vado al governo. Eh sì, ma sicuro. Ma sicuro. Comunque, il crollo del Movimento 5 Stelle e della Lega, massata in pochi anni dal 20 al 7,5%, è doppiata da Forza Italia. Eh sì. Ti posso dire, si può tranquillamente dire in effetti che prende più voti Berlusconi da morto che Salvini da vivo. Ma bisogna dire che la reazione della Lega è stata molto matura. Fare finta di niente. Sì, proprio negazione dell'evidenza. Bella vittoria del centro-destra con un buon risultato per la Lega che supera i 5 Stelle e sinistra malamente sconfitta. A dispetto dei profeti di sventura, grazie a Bruzzo. Eh sì, un buon risultato. Sono arrivati solo penultimi, mica ultimi. Eh beh, insomma, va da vantarsene. Il miracolo poi però l'ha fatto Borghi Claudio, membro del Coppa Sir dai 60 tweet al giorno. In media, l'abbiamo detto più volte, che cade proprio vittoria. Sì. Piccola nota di colore, dice. A Gamberale, ecco, chieti, la nostra puntina da Bruzzo nel centro-destra vince con l'82,88% e il 48,53% è tutto per la Lega. Me cojoni, a Gamberale, oh, mica male, non scherziamo. Gamberale, aspetta, quanti hanno votato a Gamberale? Allora, 146. Persone? Sì, 146. E guarda un po', guarda un po', 66 voti, tutti per Salvini. Tutti suoi. Eh che cazzo, ma come fai a dire che è andata male? Certo. A dopo, viva Gamberale! Allora, a dopo con Luca e Paolo, bentornato, Pierluigi Inversani. Allora, c'è una frase di Marsilio, il nuovo governatore dell'Abruzzo, dice, Schlein, la sinistra, ha fatto calare in massa tutte le vecchie glorie, da zio Bersani in giù. Cosa risponde? Ma non è che ha fatto calare, io vado dove mi chiamano. Questo è il sarcasmo, è l'umorismo che hanno loro, ognuno ha l'umorismo che ha, quindi... Che sarcasmo è? Che umorismo è? No, ha questo sarcasmo che vuole essere sempre un po' offensivo. Io vorrei dire al presidente Marsilio, caro presidente, intanto buon lavoro per la sua regione. Poi vorrei dirle che io sono stato in Sardegna, in Abruzzo, a Foggia, in Alto Adige, vado dove posso darne a mano le mie idee, sia che si vinca, sia che si perda, non me ne frega niente, e ci vado liberamente, perché, veda presidente, io ci vado a spese mie e dei miei compagni, non come ha fatto lei, chiamando 12 ministri a spese nostre. Quindi buon lavoro, spero che si occupi dei problemi che abbiamo incrociato lì, a cominciare dalla sanità. Sa cosa c'è? Ci sono due aspetti in questo approccio, uno appunto, come dice lei, il sarcasmo del vincente, ne parliamo dopo, un altro è il dato di fatto dall'altra parte, cioè lui dice, questa è una sinistra che ora non presenta nulla di buono, deve ricorrere a chi l'ha guidata in passato, alle figure storiche, quale lei è, al di là dello zio sarcastico, però una figura storica, non può portare novità, non legge il paese nuovo. in questo c'è pure chi dice, ma d'altronde il centro-sinistra ha presentato un rettore, è roba anni 90, del 2000, noi sappiamo più di voi, noi vi spieghiamo. Ma cose che, io giravo, giravo con Ellis Line, cioè con chi giravo, di che cosa, ma non mi offendo mica se mi dicono nonno, no, era zio, era zio, no, c'è anche chi dice nonno, adesso poi arriverà, non mi offendo, io so di essere di un'altra stagione, mi vengono riproverate anche delle radici, no, abbiamo sentito l'intemerata del ministro San Giuliano, sono comunisti. La vuole sentire di nuovo, così capiamo di che si parla, sentiamo San Giuliano. Questa regione non può tornare indietro, non può tornare nella palude del PD, non può tornare nelle mani dei comunisti, perché io li chiamo nome e cognome, sono ancora comunisti, radicati in una ideologia nefasta e antiliberale. Sono stati finanziati, pensate, film con 14, 20 spettatori. Vado ad ingrassare il solito regista che poi organizza la terrazzata romana della gauche caviar con la R. Moscia e che si raccontano fra di loro di essere i migliori, i più colti, di essere delle super persone che ci guardano dall'alto in basso. quest'uomo ha dei complessi secondo me. allora, primo, se a me dande il comunista purché specifichino comunista emiliano e italiano, io non mi offendo. Vabbè, avrebbe cambiato idea però. No, basta. Cioè, lei pensa che serva la dittatura del proletariato. Berlinguer, Zangeri, a loro, ai Missini, perché di questo si tratta, può venire in mente Almirante, Rauti, vediamo il contributo che è andato all'Italia questi qui. Se mi cercano mi trovano su questo piano qui. Quanto poi ai toni... però aspetti, una domanda serve. Lei rivendica la storia di Berlinguer, rivendica la storia del suo partito, ma non rivendicherà la necessità di una dittatura del proletariato per arrivare alla libertà? No, 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 ma io sono emiliano, sono emiliano e so di parlare con dei Missini. So di parlare con dei Missini. Poi vorrei dire, quando uno sente un ministro con quei toni lì e tutti i dodici e la Meloni, ma voglio dire, il profilo di chi governa può essere questo? Io l'ho fatto anch'io il ministro, ma quando governi sono tutti figli tuoi, non puoi invece di interpretare un governo interpretare una fazione con questa aggressività, ma fa un altro mestiere allora, fa la Gipro o mettiti in libertà come sono io, io posso fare quel che voglio, non so niente, non ho niente e non ho nessuno, governarsi, io non li ho mai fatti dei comizi così quando governavo. Senta, lei dice San Giuliano, ma ci sono due aspetti anche qua, uno è loro che si propongono così e l'altro la gente qui evidentemente piace. Le faccio vedere come ha chiuso il comizio in Abruzzo, Giorgia Meloni, era il periodo in cui le venivano rimproverate le vocine, gli atteggiamenti e lei l'ha chiuso così. Poi dice Inissini, senta come chiude. Succederà di tutto. c'ho l'elmetto, io ho già messo l'elmetto, fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci, possono fare tutto quello che vogliono, ma noi non molleremo mai. Vittimismo aggressivo è questo qui, la chiave è questa qui, che non è una chiave da uno che ha responsabilità di governo, questa è una mia idea. Una citazione indiretta, boia chi molla era urlo dei Missini di Reggio Calabria, però piace, ha vinto. Ma insomma, momento, momento, no? Sì, abbiamo perso in Abruzzo, sì, non c'è dubbio e non ci piove. Dopodiché, non penseremo mica noi centrosinistro ho commentatori vari che questo centrodestra, questa destra la butti giù con una spallata. Cioè, questa destra è radicata nel profondo di questo paese. Quindi, abbiamo un lavoro duro e lungo. Se lo leggiamo così, rifacciamo un attimo il quadro, perché un mese fa avevano due regioni, adesso ne hanno una. ok? Boh. Anche dove si è perso, anche dove si è perso, attenzione, è successo qualcosa. Non solo perché partivamo da 20 punti di distacco e siamo arrivati a 7, vincere era una scommessa forse esagerata, naturalmente. Non solo per questo, perché ho visto, personalmente, ho visto, a poco a poco, come è avvenuto anche in Sardegna. Anche lì si è creato una situazione, un popolo, diciamo, un popolo dell'alternativa, che comincia a comprendere che i partiti sono degli affluenti e il fiume e il fiume è l'alternativa. Comincia a mescolarsi questa cosa, è un inizio, ma è preziosissimo e credo, quindi, che noi abbiamo, è come succede nel calcio, no? tu puoi perdere una partita, anche importante, ma ti accorgi se la squadra c'è, se il gioco funziona, te ne accorgi. Allora. Io penso che dobbiamo insistere così, come abbiamo fatto in Sardegna e in Abruzzo. Però, quello che probabilmente, diciamo, vi sfugge, è che, mentre il centrodestra sono 30 anni che ragiona così come dice lei, stanno sempre insieme, una volta lo guida uno, una volta lo guida l'altro, sono tutti quelli che ci sono ora, sono i ministri Berlusconi, cioè hanno una tenuta grossa di squadra e di elettorato. Voi, se si perde l'Abruzzo, si inizia a discutere, beh, insomma, allora forse serve il proporzionale, l'anno nel caso, inizia a dire, beh, ma Conte così è secondo alla Schlein, la Schlein prima era seconda a Conte, allora funzionava, cosa non avete voi che è al centrodestra? Insomma, intanto la favola del centrodestra che non si è mai diviso, non si divide, cioè cerchiamo di smentirla, perché ha cominciato dal 96, quando persero dividendosi e via e via, fino all'ultimi governi, no? No, ma dopo si dividono, ma prima no, voi li dividete prima. Va bene, detto questo, detto questo, allora è vero, cioè la destra, siamo diversi in questo, cioè la destra può avere un vicepresidente del Consiglio che sta con Navalny e l'altro vicepresidente del Consiglio che sta con Putin e vanno avanti tranquilli e ciao. Noi, noi spacchiamo i capelli in quattro perché siamo più intenzionali, perché al fondo c'è qualcosa di nobile in questa differenza, cioè la destra sostanzialmente gli va bene il mondo così com'è, la sinistra ci ha una pretesa un po' ortopedica, cioè vorrebbe cambiarlo un po', raddrizzarlo un po', tutto lì, ecco. È vero però, mi faccio con cui, è vero però, devo riconoscerlo, lo riconosco, che abbiamo un problema, no? Anzi, due ne abbiamo. Uno, che noi dobbiamo ricomporre una cosa che è partita malamente, i Cinque Stelle sono nati in polemica col PD, col Waffa, quando a me davano del Gargamella io dicevo, ma non ha neanche tutti i totti, dicevo, a proposito, perché Grillo è più spiritoso di Marsiglio, non c'è dubbio. Beh, è stato anche duro, eh, Grillo. Ecco, e quindi, e il PD ha considerato per anni Cinque Stelle il nemico principale, questo è, fino al 2018. E a questo punto, diciamo, c'è questa difficoltà. In più... Si dimentica un terzo, o due terzi, Calenda e Renzi. Arrivo, in più, e io l'ho sempre anche questo detto, a noi per quadrare, diciamo, questa alternativa, manca ancora, abbiamo bisogno di un filone liberale. Non mi piace parlarci, non c'è questione di centro, è questione di una cultura liberale, propriamente liberale. E qui, Calenda, pare non voglia. Renzi, si confronterà con Marnacci. e quindi, dobbiamo metterci alla ricerca e interpretare un po' questa cosa. Detto questo, io penso... Ma chiami Renzi, no? Si accordi con Renzi? Faccia una telefonata. No, ma no, cosa vuole? Io non è che... Da quant'è che non lo sento? Basta l'agilità, ci vuole anche un profilo politico, insomma, capito. Però lo sa cosa farebbe uno di destra al posto suo? Chiamerebbe, oi Renzi, dai, sì, ma che ce ne frega di quello che è successo? Allora, come ci organizziamo? Ma sì, ma io non è che ho delle preclusioni, però sto dando dei giudizi, credo, obiettivi. Sa cosa hanno quelli di destra, forte, nei confronti di quelli di sinistra? Che dividono il mondo come vogliono loro e poi molto spesso il centro-sinistra è costretto a sistemarsi di qua e di là. Le faccio vedere l'aggressività, la determinazione di Giorgia Meloni. Guardate. Noi abbiamo portato al governo l'Italia vera che non è quella descritta dai giornaloni o nei salotti tv. Per questo noi siamo un nemico da battere con qualsiasi mezzo, perché siamo uno specchio, siamo uno specchio per la loro meschinità. Per combatterci si sono ridotti a tifare contro l'Italia e invece l'Italia con noi vince. Presidente, teme che il caso Pozzolo possa abbattersi sul governo? Non parla, non parla. Ma gli farei il vostro servizio confezionato in piazza pulita. Il quale confezionato? Nessuno ha fatto nessun servizio. Non parlo in piazza pulita, dovreste sapere. Allora le rinnovo l'indito, Presidente. Grazie. Guardi, io le rinnovo la risposta. No. Sinistra giornalisti tutti con un'intenzione malevola non nei confronti loro ma addirittura del Paese. Sì, ma io sono rasserenato da queste cose perché sono sicuro che naturalmente se non siamo nell'area del centro-sinistra proprio dei deficienti questo modo non può durare. Loro hanno sempre un argomento. abbiamo il consenso, abbiamo vinto, teniamoci, chi vince ha sempre ragione ma non sempre chi perde ha torto. Si vede dopo un po'. Si vede dopo un po' e se vanno avanti così io dico che lo vediamo prima di quanto si pensi. Io credo che correggerà, proverà a correggere ma l'atteggiamento. Si. Cioè dice ora inizia a fare se è sicura di vincere fa la statista. Perché? Perché sono lì per una rivincita. Cioè il revancismo vuol dire questo. Allora uno si chiede ma rivincita per Baco? Facevi il ministro già con Berlusconi 15 anni fa quell'altro San Giuliano dirigevi un telegiornale che era razza di rivincita. E erano costretti a nascondersi ora rivendicano le origini. La rivincita è più antica. Qual è? La rivincita è più antica. È la radice questa radice che abbiamo visto nel dopoguerra di una destra che non è riuscita a risolvere il problema di fondo. e quindi come dice Ovidio rispetto al fascismo né con te né senza di te posso vivere. Non l'ha risolto. Che poesia. Non l'ha risolto. E quindi la rivincita è noi senza risolverlo comanderemo. Questa è la rivincita. C'è un fatto però abbiamo detto che sa dividere l'Italia come la sapeva dividere Silvio Berlusconi. È una qualità anche di quella parte politica dare delle squadre nette. Poi però ci sono dei fatti che li aiutano. Guardi il dossieraggio il caso del dossieraggio come ne parla dal palco Giorgia Meloni. Inchiesta Perugia secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali segnatamente al giornale di De Benedetti vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono metodi da regime. Il governo che rivendica metodi di regime da parte dell'opposizione. Va bene insomma è sempre il solito vittimismo è sempre la solita roba è chiaro che è un problema serio quando c'hai i 30.000 file che sono estratti abusivamente dal banche dati dell'antimafio o altre banche dati non sarà un problema è un problema sì ecco dopodiché se dentro quell'elenco che comincia a venire fuori eccetera c'è anche il buon Federico Fornaro e c'è la compagna di Giuseppe e c'è la compagna di Giuseppe Conte eccetera però vediamo i nomi sono quasi tutti di destra sono pure molto importanti Crosetto Lollobrigida Urso Belmastro Salvini Valditara Farafreni c'è qualcosa che non torna in questo caso ma che ne so io so solo che ci sono due magistrati che è Cantone e Melillo che sono perfettamente in grado di andare a fondo a questa questione e vedere se c'è questo maneggio per ragioni di denaro se c'è degli osseraggi o se c'è della curiosità le chiudo con le due facce di due medaglie che dovrebbero essere diverse il materiale e l'immaginario il materiale Giorgia Meloni e l'economia guarda i risultati record di occupazione record di numero di occupati record di contratti stabili tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni come l'abbiamo fatto? Abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava L'economia va bene quello lei dice e quello molti dati testimoniano guardi adesso se abbiamo tempo posso beh lei rimane con noi e poi magari entrerà nel particolare però il concetto questa cosa sull'occupazione queste cose non tengono conto di una serie di cose per esempio l'andamento demografico per esempio del fatto che hai trattenuto della gente che sarebbe andata in pensione per esempio del fatto che in quei famosi contratti stabili anche il part time può essere fatto a tempo indeterminato anche il part time involontario Carmeloni eccetera dopodiché se noi con questi occupati qui che pure i numeri non sono arretrati questo sicuramente abbiamo un tasso di produttività che è la metà di quello europeo avrà qualcosa a che vedere col fatto che li paghi poco perché l'anno scorso lei dice salari più alti i salari sono aumentati dell'1,8 contro un'inflazione al 5,7 e finché li paghi poco non hai interesse a investire a creare produttività cioè lei dice se smettiamo di pagarli e lavoriamo tutti piena occupazione ma il problema è rimasto e allora l'immaginario festa della donna giornata della donna per essere più corretti Re News la festeggia con una poesia che usa questa immagine e questo linguaggio Dio mi fece donna e mi ha scavato dentro mi ha reso fabbrica di esseri umani ha intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero dei miei ormoni ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me perché irrigasse tutto il mio corpo nacquero così le idee i sogni l'istinto tutto quel che ha creato suavemente a colpi di mantice e di trapano d'amore per cui mi alzo orgogliosa tutte le mattine e benedico il mio sesso la faccia di era curioso vedere anche Elisabetta Piccolotti cosa sta cambiando nel nostro linguaggio nel nostro modo di pensare mentre governa una destra molto compatta molto netta molto radicale anche sul fronte valoriale ma io credo che bisogna risvegliare i valori su questo non c'è dubbio sono convinto sono convinto che sia possibile assolutamente l'Italia politicamente è una mela spaccata in due non diciamo che la destra adesso sembra che debordi perché si sta prendendo tutto ma è la metà di questo paese qui l'altra metà deve darsi una mossa è poco da fare e la politica deve dare il là però questa cosa è campo è il campo largo eccetera ma qui io dico il campo si chiama il campo dell'alternativa e facciamolo girare per il paese questi modellini qui che si stanno creando per le elezioni facciamoli girare nel paese sollecitando però dovrete trovarlo uno che guidano loro girano dietro a Giorgia Meloni prima giravano dietro a Matteo Salvini prima giravano dietro a Silvio Berlusconi ma voi uno che vi guida non lo trovate sceglietelo anche voi non che vi viena a prendere ma uno io non non la vedo io penso che saranno le cose la gente a dirci come risolvere quando sarà il momento del tema della leadership così come quello del nome campo giusto campo largo adesso lo chiamiamo campo per l'alternativa facciamo nel paese comitati per l'alternativa che sollecitino lo spirito civico sociale valoriale di tanta gente quando saremo sotto gli daremo un nome meno campestre che problema c'è e troveremo anche chi guida la battaglia insomma senta le chiedo un ultimo parere il prossimo deve essere capace di governare perché avremo dei disastri Matteo Salvini che fa? potete sperare in lui la rega ne ha fatti cadere di governi in passato io non ci spero non spero in questo perché l'istinto l'istinto a star lì quando lui faceva quei numeri lì tipo col conte 1 è perché pensava che con la forza che aveva poteva comunque dirigere il traffico adesso credo che quest'idea non li venga quindi io penso che il centro-sinistra deve contare sulle sue forze perché ha un dovere non un dovere quello di offrire al paese un'alternativa a questa situazione bisogna sentire acutamente questo dovere e non perdersi in piacchiere e in stupidaggi Lady Conte si fida Lady Conte si fida io mi fido mi fido di tutti mi fido di Conte mi fido di tutti quelli che il problema è che bisogna dire con più nettezza quel che si vuole e quel che si vuol fare e dare a queste compagine un elemento stabile che possa girare nel paese e sollecitare le energie ma ripeto tutto parte dal volerlo e il volerlo parte dalla comprensione che si fa quel che si deve e succeda quel che può ok come diceva Nenni e Zacanini qui noi dobbiamo offrire al paese un'alternativa se no quest'Italia finisce contro il muro Pierluigi Bersani resti con noi e poi si confronta anche con Francesco Storace che ha visto Michele Santoro prego se vi salutate date almeno un segnale che qualcuno da quelle parti allora Michele Santoro da dove vuoi partire vorrei partire da questa favola che Bersani ogni volta ci racconta in maniera rassicurante del principe azzurro centro-sinistra che ancora non è arrivato ma che poi a un certo punto arriverà io mi chiedo a che punto e con quali valori perché i nostri telegiornali non ci informano come ben sappiamo almeno quelli della RAI che dovrebbero farlo per obbligo sul fatto che per esempio il Parlamento europeo ha discusso una mozione che è stata approvata dal Partito Democratico nella quale mozione si chiede praticamente di prolungare la guerra tra l'Ucraina e la Russia fino a quando l'Ucraina non avrà riconquistato completamente i territori compresi la Crimea e di fornire all'Ucraina tutto quello che è necessario missili armi bombe munizioni qualunque tipo di arma possa essere utile al raggiungimento di questo scopo e di innalzare la spesa militare per raggiungere questo scopo questa è la mozione che è stata approvata con la partecipazione del Partito Democratico ora io mi chiedo io mi chiedo come li vogliamo affrontare questi problemi degli italiani in che modo senza mettere in discussione il sistema di guerra nel quale viviamo se io ti domandassi non ti porre la domanda come li vogliamo affrontare poniti la domanda con chi li vuoi affrontare e allora li vuoi affrontare col PD o con la Lega io innanzitutto lo vorrei affrontare con la mia Europa con l'Europa in cui io credo e se l'Europa ha deliberato una cosa del genere vuol dire che l'Europa in questo momento si sta suicidando cioè si sta addirittura riducendo a chiedere agli americani guardate voi che in questo momento avete qualche dubbio su quello che sta succedendo e state valutando se mandare queste altre decine di miliardi di aiuti in armi all'Ucraina no non dovete stare lì a pensarci queste armi le dovete mandare ma io lo capisco quello che vuoi dire cioè io dove mi devo rivolgere io mi devo rivolgere all'unica forza che in questo momento in maniera spiritualmente forte ha il coraggio di dire che questo massacro deve finire mi devo rivolgere a Papa Francesco perché è l'unica vera alternativa che sei di fronte a noi sentiamolo Papa Francesco ha scioccato l'intervista però il Papa per esempio sul conflitto in Ucraina ci vorrebbe la resa la bandiera bianca in questo caso alcuni dicono è legittimare poi la legge del più forte è un'interpretazione è vero ma credo che è più forte quello che vede la situazione pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggio ha fatto scandalo ha detto la cosa più giusta che si può dire in questo momento innanzitutto c'è anche una grave deformazione del pensiero del Papa perché il Papa quello che ha detto quando si riferisce alla bandiera bianca non si riferisce alla resa di una delle due parti ma alla trattativa ma si riferisce al fatto che i due contendenti soprattutto il più forte chiarisce lui deve avere il coraggio di alzare quella bandiera bianca che si alza quando ci si incontra per negoziare e se noi non usciamo da questa guerra le condizioni di vita dei lavoratori europei saranno disastrose e la previsione che si fa è invece di farci rimanere in questa guerra per altri dieci anni ma scusa lasciami dire un'ultima cosa in questa mozione si usa nei confronti nei confronti della Russia il termine genocidio genocidio tenendo conto del fatto che la Russia fino a questo momento ha fatto una cosa comunque orribile 20.000 civili come vittime in due anni di guerra in questo momento lo Stato di Israele ne ha fatti 32.000 di vittime è chiaro e noi non possiamo usare e ne io la uso la parola genocidio ma allora mi chiedo ma come funziona questa doppia velocità io però mi chiedo una cosa vedi Michele che il Papa indirizzi verso dei principi è il ruolo del Papa tu vuoi indirizzare il mondo verso i tuoi principi o vuoi fare qualcosa perché si arrivi a quella pace perché se vuoi fare qualcosa no no io voglio fare qualcosa con Mersani devi parlare io voglio fare qualcosa perché non credo che Giorgia Meloni sia d'accordo con te sull'Ucraina ma tanto è vero che voglio fare qualcosa che la cosa che vorrei fare è uscire da questo dibattito un po' stucchevole che in Italia il primo problema che ci dobbiamo porre è tra fascismo e antifascismo il primo problema che ci dobbiamo porre è la guerra non è il fascismo e l'antifascismo il primo problema in questo momento è che le nostre istituzioni non sono in pericolo certo ci sono questi buzzurri che si esprimono in questa maniera volgare e che fa pensare ai toni del passato ma non vedo pericoli per le nostre istituzioni in questo momento ma non le istituzioni il pensiero del paese mentre vedo mentre vedo un pericolo enorme nel fatto che l'Europa possa essere cancellata dalla scena geopolitica mondiale che non svolga un ruolo iniziale ma l'attuazione vedo un pericolo mostruoso nel fatto che mandiamo le navi noi nel Mar Rosso perché gli UTI minacciano le rotte mercantili no un momento gli UTI abbiamo il coraggio di dirlo gli UTI stanno intervenendo contro navi va bene che commerciano con lo Stato di Israele e non hanno preso di mira fino a questo momento mercantili italiani ora se noi ci mettiamo a capo sia pure e tatticamente di una spedizione militare che comprende inglesi e americani noi a voglia io quando sento parlare i politici italiani anche quelli della parte diversa da Meloni che invece questi dubbi non li propone bene io non li sento dire che in questo momento lo Stato Israele si deve fermare noi non siamo militarmente d'accordo con lo Stato Israele allora se loro non lo dicono questo scusami un attimo quando io vado quando vado a collocarmi in quella posizione con delle navi militari io sono di fatto sto agendo di fatto accanto allo Stato Israele e in qualche maniera sono complice del massacro che si sta facendo di io ti rivolto la questione tu dici mentre noi parliamo di altre cose succede questo io ti dico mentre tu parli di questo succedono altre cose cioè cosa succede intanto succede che la Meloni vince le elezioni cosa succede che la Meloni vince le elezioni in Abruzzo non solo allora perché aspetta se ne parliamo nemmeno di far parlare no pensavo che tu mi dicessi capito le elezioni in Abruzzo sono tante cose succede che il ministro della cultura è un ministro che ha l'origine che dice tu ma la parliamo di una alla volta però perché non facciamo tutto l'elecco delle cose e la politica è la politica a mettere insieme le cose la scorsa settimana sono venuto non la scorsa settimana due settimane fa sono venuto qui e ho detto un momento guardate un attimo i dati no i dati non ci dicono di una grande avanzata del centro-sinistra ci dicono che il centro-sinistra è stato più abile nell'individuare un candidato vincente ma se vai a vedere i voti la società sarda comunque ha votato prevalentemente a destra e comunque quello che sta succedendo di grave nella nostra realtà è che metà della società sarda non ha votato e in maniera crescente nonostante avesse ben tre candidati forti quello che è successo anche in Abruzzo nonostante per la prima volta tutti i giornali italiani tutte le televisioni ci abbiano invaso di Abruzzo con tutto il rispetto per quella regione ma della quale non gli era mai importato granché a nessuno è diventato il centro del mondo in questo momento improvvisamente l'Abruzzo e nonostante questo la metà degli abruzzesi non è andata a votare è qui il pericolo per la democrazia che io vedo nella gente che non partecipa capito che non vota e perché non vota la domanda via è perché non vota perché non vanno a votare perché pensano che poi alla fine le cose che possono cambiare sono molto poche perché la crisi della sanità è cominciata prima del governo di Marsilio in quella regione e quindi a questo punto questo nuovo candidato prometteva di metterci riparo che succede che la gente dice no ma io non lo so se questi ce la faranno a mettere riparo visto che hanno cominciato loro a smantellare quello che c'era da smantellare va bene o che non c'era da smantellare quindi che cosa faccio io mi tengo quelli che mi appaiono i più forti perché così in qualche maniera magari mi arrangio personalmente ma non ti viene a dire cerchiamo di apparire più forti noi non ti viene a dire allora cerchiamo di apparire più forti allora questa è una cosa che è cominciata con Prodi che la forza è ammucchiare quanto più già detto è possibile no la forza è innanzitutto forza delle idee del cambiamento che tu vuoi portare in una realtà ma questa forza delle idee cioè se dall'altra parte non hanno idee ma sono uniti e vincono ma non le puoi manifestare ma siete tutti separati ma non le puoi manifestare ma perché gli altri possono stare separati e l'unico che non può stare separati sono io sono tutti separati adesso siccome arrivo io che sono l'unico mi prendo l'unico separato che deve essere cancellato da faccia l'umanità no un attimo un po' di pazienza quello che voglio dire che non è facendo la somma degli addendi che arrivi al risultato ci arrivi quando c'è finalmente una visione forte è una visione comune ma come ci può essere una visione comune se stanno aggirandosi nelle rovine di Gaza dei bambini che morono di fame ma è di per sé che morono di fame e noi quello che facciamo è una predizione contro un'idea comune non può che essere mediazione non può che essere compromesso quindi inizia a lavorare ma compromesso su che cosa? su una guerra dobbiamo avere un compromesso? a me se vuoi unire le guerre o si fanno o non si fanno per me non si devono fare è chiaro e su questo non ci sarà mai nessun compromesso da parte mia scusa in questo studio quando nessuno parlava male di quello che stava succedendo in Ucraina sono venuto io e di fronte a me c'era un ambasciatore un ex ambasciatore sì ma sono anche ex capo dei servizi e di quello che ci voglio parlare esatto che ci ha detto che ci ha detto a noi tutti che lo ascoltavamo l'indipendenza dell'Ucraina passa attraverso qualche decina di migliaia di morti si disse non è questo il momento di trattare si tratterà più tardi si tratterà più tardi sono passati due anni le vittime sono le vittime sono 500 mila attenzione di cui solo 20 mila civili in quella situazione solo tra virgolette e questa guerra corre il rischio di diventare infinita e di portarci sempre di più sull'orlo di una guerra nucleare perché tu a un certo punto cosa farai? se tu fossi al posto di Putin nel momento in cui sei messo all'angolo e la guerra la stai per perdere o l'hanno detto l'hanno scritto pure sui giornali recentemente che avevano detto io uso anche l'arma nucleare è scritto una costituzione russa questo Michele Santoro abbiamo parlato di guerra di politica di informazione e di servizi in qualche misura ti preoccupa il caso dei dossieraggi? certo non mi preoccupa mi preoccupa moltissimo perché sono come ricordava benissimo Bersani non poche centinaia ma 30 mila accessi abusivi cioè vuol dire che senza un mandato da parte dell'autorità giudiziaria sono andati a vedere a fare una pesca strascico per capire chi aveva commesso reati come quando e perché ma la cosa che mi preoccupa ancora di più più del fascismo e dell'antifascismo mi preoccupa il fatto che c'è una commissione del nostro del nostro parlamento una commissione parlamentare che sta con compiti di addirittura giudiziari che sta valutando questi casi mentre c'è l'autorità giudiziaria che li sta valutando e ne vogliono fare una terza che valuti giudiziariamente questa situazione cioè vi rendete conto questo materiale preso illegalmente quanti giri farà questa confusione totale tra politica e giustizia porterà una sfiducia totale nei confronti della magistratura io capisco che c'è quest'allarme non c'è stato lo stesso allarme quando per esempio a me hanno messo un trojan perché avevo scritto un libro va bene sono stato spiato indagato e contemporaneamente sentito come testimone adesso la gente che ci ascolta dice che cosa vuol dire vuol dire che se tu sei indagato va bene sei un possibile autore di un reato quindi quando ti interrogano i magistrati ti devono dire guarda che tu potrei tu sei in una condizione di indagato quello che tu si potrà essere usato nei film se ti interrogano come testimone dopo che ti hanno spiato in tutto e per tutto tu hai la prima sciocchezza che dici loro ti possono anche ammanettare questi sono abusi clamorosi in una repubblica che ha abolito l'abuso di potere capite mentre l'abuso di potere è quello che interessa tutti noi cittadini questi sono abusi di potere perché io devo capire non tanto perché si fanno le cose ma devo capire i funzionari che hanno fatto quegli accessi li potevano fare sì o no se non li potevano fare è abuso di potere e noi abbiamo perfino abolito il reato che punisce l'abuso di potere è chiaro? allora ti riporto ad unità tutto quello che dici succede con la destra italiana al governo non è solo quella italiana che sta governando c'è una destra forte in tutto il mondo che probabilmente prenderà anche gli Stati Uniti d'America ti faccio vedere so che non ami i filmati ma per darci un'idea di cosa è il peggio della destra al momento non mi filmati non i quelli tuoi non i quelli nostri basta che siano originali ecco te ho vedi vediamo migrazione e il terrorismo che si tratta di un po' che si tratta di un po' di punizione per la donna per la donna sì deve essere qualche forma non voglio stare pidendo perdone per tenere pene non voglio sentire vergogna di essere un hombre blanco rubio di occo celeste te sta succedendo qualcosa di grosso nel mondo hai fatto un mix abbastanza singolare al di là delle tue critiche a riguardo però ti sembra ti sembra un momento alla trapongo giù piatta ti sembra un momento in cui interrogarsi sulle virgole penso di aver capito la domanda ti sembra il momento in cui fare tanto il difficile con i tuoi simili allora mi sembra il momento che per una volta ribaltiamo ribaltiamo il tavolo e ci mettiamo dal punto di vista della stragrande maggioranza delle persone che ci interessano perché il rischio per noi è quello di apparire come i difensori di qualunque tipo di diversità di diritto eccetera ma non chi tutela la stragrande maggioranza della popolazione come si fa a fare questo in un semplice modo affermando il diritto di ogni persona di ogni persona qualunque sia qualunque siano le sue caratteristiche ad essere trattato con pari dignità rispetto agli altri punto e basta però se noi continuiamo a guardare per esempio alle migrazioni soltanto per condannare il cinismo la barbarie che esiste da parte della destra lo sfruttamento che loro fanno della paura delle migrazioni ma non ci poniamo mai dal punto di vista dell'operaio che vede il suo salario minacciato che vede il suo territorio ti posso fare una domanda ti posso fare una domanda hai visto inquadrato il presidente Moulet no Forza Italia è andata bene c'è uno spazio forse che si stanno prendendo loro invece dei vari Renzi Calenda c'è uno spazio di cui non abbiamo parlato uno spazio di gente che dice fammi vedere un po' chi voto e alla fine ritorna questo è un gioco si potrebbe chiamare un gioco di mezza società c'è mezza società italiana che non gli importa assolutamente niente di che cosa fa e gli altri occupano le caselle che riesce a convolgere ancora quelli che vanno a votare io vorrei un gioco di società un qualche cosa che coinvolge veramente tutti dove capiamo che c'è in ballo qualcosa di importante per la nostra vita e guarda che la guerra è la cosa più importante che c'è che mette in discussione la vita di tutti Michele Santoro grazie un boccalumo per il tuo lavoro piccola pausa e vediamo di far confrontare un po' di idee ora buonasera benvenuta a Marta Bonafoni del PD Giorgio Mule vicepresidente della Camera Forza Italia buonasera sempre con noi Leo Gullotta e lo conosciamo tutti Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Storace già ministro e presidente di regione con luce rossa e nero su Radio 1 Rai Alessandro Di Battista che sabato prossimo sarà a Potenza con il suo spettacolo teatrale a Sanche colpirne uno per educarne cento di certo un tema molto attuale Leo Gullotta lei all'inizio diceva il governo Meloni non mi piace perché? sono tante motivazioni mancano quasi tutte le motivazioni giuste per amare questo governo è chiuso non ama la stampa siamo sempre pendenti da parte del del presidente del consiglio la presidentessa del consiglio a sputare ogni tanto qualche cosina ma tanto per dare piacevolezza al pubblico un vespaio ogni volta polemiche non si parla di lavoro non si parla di sanità non si parla di cutro cutro è andato così nascosto quasi non se ne deve parlare il lavoro i salari possibile che non si possa avere un programma da guardare bene o male che sia niente di tutto questo lei ha detto sono fascisti ma non ho capito lei ha detto prima sono fascisti lo sono lo sono soprattutto lei che è una donna intelligente furba si va a cercare i bacini in questo momento perché ha capito qual è il giochetto l'atlantismo e quant'altro ma fuori di questo non si deve parlare di nulla lei lei accetta dice inventa Vespai frasette arriva punisce dà lezioni a tutti con il ditino è un linguaggio che non parla al cittadino lo allontana infatti infatti al momento di votare la gente non va a votare Francesco Storaci non riuscirete a farmi litigare col maestro Bullotta perché l'ammirazione è enorme però diciamo che è un po' esagerata la valutazione però ci sta ha una sua legittimità vediamo anche dall'altra parte quello che è successo e comunque questa è una donna che vince sempre è una coalizione c'è stato l'infortunio salvo però il popolo c'è non è che non c'è e com'è che non va a votare come è che non va a votare ma sono dieci anni che non va a votare la gente sono dieci anni non è adesso che è successa sta roba ormai è tanto tempo purtroppo ma se l'alternativa che si offre ai cittadini io che ho sentito Bersani Santoro se l'alternativa che si offre ai cittadini è una coalizione monstra essere persone per bene Renzi di Battista fra poco ci metteranno ma è lui che rifiuta ma dove si va però dice un'altra cosa lui dice essere persone per bene che vuol dire? essere persone per bene cioè capirsi con un linguaggio sincero vero non autoritario però su questo su questo però è un po' generosa questa roba perché basti vedere l'ultima settimana cioè succede di tutto per far perdere i nervi la storia del dossieraggio è qualcosa che oggettivamente non si sopporta ci sono stati una serie di attacchi terribili oggi pure dall'Unione Europea un'altra volta contro Salvini ma che cosa deve succedere? cosa hanno detto? la commissaria europea che ha detto che c'era un problema che i partiti vicini alla Russia quest'altro che deve dire di più se non votare per l'Ucraina ogni volta allora questa roba non funziona più e il cittadino la rifiuta perché se non gli piace il governo non gli piace manco l'opposizione Elisabetta Piccolotti la prima cosa che noto è che a destra si lamentano degli attacchi ma sono stati maestri di attacchi per tantissimo tempo e ogni giorno pur stando al governo invece di discutere dei problemi reali delle persone inventano un nemico c'è sempre qualcuno un potere forte una regia occulta un mandante invisibile sì la Meloni ogni giorno inventa un nemico ogni giorno voi parlate però mi faccia dire mi faccia dire perché noi ogni giorno proviamo a porre alcuni temi fondamentali che sono stati ricordati il tema della sanità che non funziona e che è al disastro il tema dei salari troppo bassi perché sono cresciuti solo dell'1,8% mentre nel 2023 i prezzi sono cresciuti erano già cresciuti molto del 4% quindi continuiamo a perdere potere d'acquisto c'è il grande tema della scuola perché ci sono migliaia e migliaia di bambini che non hanno il tempo pieno che non hanno la mensa che non hanno le strutture ecco voi di tutto questo non volete mai parlare perché se si parla di questo il paese reale torna a sentirsi coinvolto e bisogna anche dall'altra parte dalla parte del governo invece di insultare bisogna mettere in campo delle proposte bisogna mettere in campo delle proposte arriviamo a Mulebo scusa una cosa hanno fatto una campagna e lei lo sa bene in Abruzzo quei famosi tre mari di Martino la vediamo questo dei tre mari che l'abbiamo Martino ma guardi che io sono andata in Abruzzo e non ho mai parlato ditemi quando l'abbiamo recuperata non raccontiamo balle sono stata in Abruzzo due volte e non ho mai parlato dei tre mari ho parlato della sanità ho parlato della riserva del Borsacchio ho parlato dei problemi dell'economia la pongo a Marta Bonafoni la pongo in maniera diversa se un aspirante governatore dell'Abruzzo dice che l'Abruzzo dà su tre mari e invece dà solo sull'Adriatico può essere che la gente non ci pensa due volte prima di dargli il voto è quello che colpisce è più una riflessione sull'Italia perché magari io non so se D'Amico D'Amico aveva altri difetti probabilmente l'abbiamo domandato a Bersani l'idea che l'universitario venga a mezzo a posto tutti perché il professore che sa e gli altri sono ignoranti possono essere due specchi della medaglia ma le viene da riflettere sulla gente che va a votare io porto grande rispetto sempre delle persone che vanno a votare ma in questo momento è vero il tema è chi non va a votare perché sia il governo Meloni che il rinnovo del governo Marsilio sono governi non della maggioranza del paese questa è matematica non è neanche politica anche in Sardegna e credo anche in Sardegna e anche in Sardegna ma infatti io credo che noi questo argomento e questa battaglia la dovremmo affrontare insieme non a insulti a invenzioni però non quando si perde dice immagino e nulla ora le dirà ma noi la tiriamo quando perdete vi ponete il problema di chi non vota anche quando vinciamo perché la sfida democratica sta più nel non voto e devo dire che l'Abruzzo ci ha restituito una visione molto chiara ad esempio del grande tema delle aree interne rispetto ai centri urbani cioè da chi è più distante da quella sanità da quel lavoro da quella dignità dei trasporti che è anche diritto alla mobilità e a una vita dignitosa nello spostarsi che la gente probabilmente si divide più su vi faccio vedere l'aggressività di Giorgia Meloni e poi l'elmetto vediamo succederà di tutto c'ho l'elmetto io ho già messo l'elmetto fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci possono fare tutto quello che vogliono ma noi non molleremo mai e questa è boia chi molla ma c'è anche la spensieratezza del rugby guardiamo ah certo siete esattamente l'Italia che si vuole vedere tenace che non molla è un cinema oggettivamente però è un cinema che non convince la maggioranza degli elettori io su questo insisto perché è vero Marsilio ha vinto con lo stesso stile di Meloni devo dire perché le battute a cui si è abbandonato subito dopo la vittoria non sono degne di nessun vincitore davvero e il fatto che si sia scomodato ad attaccare anziché a rivendicare quello che andrà a fare nei prossimi anni in Abruzzo la dice lunga sulla sua qualità di dirigente politico e di leader in Abruzzo detto questo è vero c'è un problema perché a stare sui temi noi ancora non abbiamo riconquistato la fiducia delle persone e da qui il nostro assiduo all'unità all'unità della coalizione e a stare esattamente accanto a quei bisogni Giorgio Muleo replica su questo le faccio vedere l'abbiamo recuperato i tre mari cioè in teoria l'Avruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari anzi anche sui tre mari compreso lo Ionio quindi tra l'Adriatico il Tirreno e lo Ionio è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale certo è strano sì però allora no no ma va bene tutto però gli elettori abruzzesi che lo stesso numero hanno votato esattamente cinque anni fa sostanzialmente la differenza è del 0,5 e del 0,7% non l'hanno mandato dietro la lavagna per quello che ha detto ma sto sui temi sulla sanità vado a memoria l'Abruzzo ha messo 70 milioni in più nell'ultimo bilancio ha fatto le case mobili ha portato i poliambulatori ora voi potete dire di no ma evidentemente come dire la gente vive a Pescara a Chieti all'Aquila se all'Aquila il 60% vota per questa giunta è perché evidentemente dopo il terremoto la ricostruzione viene gestita in un certo modo se la gente di Chieti di Pescara e l'Aquila votano perché la A24 e la A25 fino al 2033 i pedaggi bloccati al di là di tutto quello che ha detto che secondo me è la vostra propaganda e voi continuate a sbagliare se mi posso permettere perché non riuscite a uscire da quell'armato in cui ogni tanto tirate fuori un po' il patibolo di Piazza Loreto un po' a Calarenza eccetera siete prigionieri e poi alla fine sui temi reali cioè infrastrutture sanità e la gente non mi viene dietro non è che non hanno votato dice stavolta hanno votato il 10% in meno sono gli stessi è evidente che la controproposta non solo non è stata all'altezza ma è stata punita e poi a livello nazionale è uguale ma a livello nazionale è uguale quando il maestro Grotto dice il lavoro la sanità vuol dire che sul lavoro se il tasso di disoccupazione scende se il tasso di occupazione femminile sale se i redditi fino a 35.000 euro hanno delle tasse in meno potrà piacere o non piacere ma evidentemente non è che parliamo stiamo sui temi e quello che facciamo è che molto spesso è la destra che lancia i temi che poi la sinistra cavalca e intanto passa come presidente di una regione uno che dice che quella regione c'ha tre mari invece di uno allora parlava di autorità portuali se prendi tre secondi no lui diceva si affaccia no se prendi tre secondi è chiaro che l'effetto è quello che dividei ma non è così io quel discorso lo sono risentito ampiamente e lui dice e parlava di autorità portuali che mancavano mancavano perché si sono tre mari lui diceva sempre tre mari lui diceva sono la direttiva che ci porta e il discorso che potrebbe fare pure l'unico l'Umbria pure ce le ha il punto però è questo ma non c'hai mari non c'hai mari manca l'abruzzo mi viene a dire però ce ne ha uno eppure è bello è bellissimo però è uno lo Ionio poi ce ne è distratto davvero va bene allora ci fa un canale guardi Salvini Salvini per me la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà l'utero in affitto è una schifezza universale e il genitore uno e il genitore due sono una presa in giro per me ogni droga è merda non saranno la sinistra qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a fermarmi e a mettermi paura il cibo finto le porcate da laboratorio se le mangiassero a Bruxelles e dintorni di Battista però infatti sta perdendo consenso perché tante persone si rendono conto appunto della fuffa oggi mi sono tra l'altro segnato dei dati perché il problema della sicurezza c'è nel nostro paese e il problema principale è che i potenti colletti bianchi non finiscono in carcere perché Salvini diceva la droga è merda siamo tutti d'accordo non è vero in Italia i detenuti per reati economici in Italia i dati sono del 2022 comunque i detenuti per reati economici e finanziari sono lo 0,9% cioè i colletti bianchi in carcere non ci finiscono mai in Germania il 9,8% in Francia il 7,1% detenuti per reati di droga Italia il 31,7% Germania il 13,2% Francia il 16% la maggior parte dei cittadini si rendono conto che il problema principale della sicurezza del nostro paese è che i potenti politici i ladri i tangentari che si sono poi come dire evoluti oggi nessuno più viene pizzicato con le bustarelle oggi le tangenti si chiamano grandi consulenze maxiconferenze il conflitto il conflitto di interessi questa roba interessa a oltre il 50% delle persone che ahimè non si sente rappresentato da questo punto di vista dalla cosiddetta alternativa ultima cosa vedete lei diceva la destra lancia il tema e generalmente ci si buttano sopra quelli del centro-sinistra è vero invece tre giorni fa il Papa Papa Francesco parla di necessità di negoziare in Ucrania tra l'altro un elettorato quello cattolico che tendenzialmente dovrebbe votare più il centro-destra possibile che dall'altra parte non ci siano non abbiano come dire cavalcato positivamente le parole del Papa chiedendo un cambio di passo in Ucrania no nel Parlamento Europeo il Partito Democratico vota per una risoluzione che chiede la riconquista dei territori presi dalla Russia fino alla Crimea ma come si pensa di configgere la destra in questo modo con questa sinistra qua non c'è neanche bisogno della destra la corruzione infatti siamo obbligati si parla perché la gente non vuole e di differenza ma voi non potremmo parlarne di questo perché la gente non va più a votare 5 stelle come eravate prima la volta c'è il suo passato pure tu no non sono io proprio per questo ognuno è il suo passato avete l'isturdo ho l'idea di moralizzazione perché avete portato gli scappati di casa dentro l'inquisizione e parli ancora il salone il problema principale è stato il momento 5 stelle ha governato con loro questo è stato il problema principale lì è stato il problema assolutamente ma non me lo dica a me perché quello è il problema oggi della credibilità vado con ordine allora dice di Battista Storace che per le politiche soprattutto del centrodestra non vanno più in carcere i colletti bianchi il problema della giustizia allontana chi non vuole votare il problema della giustizia se vi dividete lo spazio in maniera secca la risposta di Battista Storace prego prego ogni anno in carcere finiscono mille persone innocenti questo di Battista non ce lo dice che c'è tra queste persone che alla fine del processo risulteranno assolte questa è tortura caro Floris non si può scherzare con la vita delle persone e ci vanno in galera mi perdoni però lui parlava di colletti bianchi questa era la denuncia di Di Battista però non si capisce perché vuole dappolire le cacce no no vuole fare riforma della giustizia che la giustizia la giustizia un tanto al filo non si può fare non si può fare perché non si tratta di colletti bianchi perché i colletti bianchi assolti dopo 7-10 anni li abbiamo avuti noi li hanno avuti loro hanno avuto i sindaci assolti dopo 7-10 anni l'altro ieri è stato assolto l'Oti io ho detto un'altra cosa no io dico invece questa cosa qua è capita male dopodiché i 28 mila non la volete capire perché sapete la problema no la capisco i 28 mila negli ultimi 25 anni che hanno causato come dire un danno errariale di svariati centinaia di milioni che non basteranno mai nulla c'entrano col senso di giustizia il senso di giustizia ce l'ha e se applicano la giustizia che è di tipo garantista che vuol dire che tu hai i tuoi diritti e che non ti prendo e butti la chiave perché quella diventa una forma di dittatura una forma come dire che non c'entra nulla con la giustizia anzi è il contrario rispetto alla giustizia e poi non c'è un atto di questo governo uno in cui dice sai hanno depenalizzato che ne so la truffa eccetera l'abuso d'ufficio su 4974 procedimenti otto condanne oh qualcosa significherà Elisabetta Piccolotti sulla giustizia è una battuta sola quando fanno la campagna elettorale dicono sempre che devono fare la giustizia più veloce più efficiente più vicina ai cittadini anche per evitare i casi di mala giustizia e poi invece ogni volta che vanno al governo questo se lo dimenticano completamente non abbiamo visto una sola misura per rendere la giustizia più efficiente abbiamo visto solo più pene e più reati rivolte in particolare contro le giovani generazioni anche contro i minorenni e poi abbiamo visto depenalizzazione dei reati dei cosiddetti colletti bianchi ma al di là di questo per esempio l'abuso d'ufficio il colletto bianco il colletto bianco il colletto bianco il pizzicarone su 4.970 l'abuso d'ufficio il pizzicarone il pizzicarone sarebbe il fornaio non è da colletto bianco si ma sono 8 condannati su 5.000 nel paese in cui le opere pubbliche costano il triplo mediamente rispetto alla france e alla Germania i carceri detenuti per reati economici finanziari sono un decimo rispetto alla Germania Giorgia Meloni sull'economia così apriamo il penultimo capitolo Giorgia Meloni sull'economia record di occupazione record di numero di occupati record di contratti stabili tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni come l'abbiamo fatto? abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava come l'abbiamo fatto? con i 200 miliardi del PNRR che c'erano già prima e che ora si stanno spendendo e che ovviamente producono anche occupazione il problema il problema il problema è che questa occupazione non è di buona qualità gli stipendi sono troppo bassi sono stati ridotti i diritti con la cancellazione del decreto dignità le persone sono sempre più ricattabili e stiamo scivolando in una condizione in cui ci sono i ricchi sempre più ricchi che naturalmente loro non toccano mai perché guai a chiedere un centesimo ai miliardari d'Italia e i poveri sempre più poveri noi questa questione non gli avrete chiesti alle aziende che hanno fatto miliardi e miliardi di profitti non gli avrete chiesti alle persone miliardi Marta Bonafoni prego Marta Bonafoni non risponde alla piccolotta che devo rispondere che le tasse le paghiamo pure troppe ma veramente le tasse in questo paese le paga solo una parte le tasse le paga solo una parte le pagano 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 sono tanto alte le tasse perché le vadano in troppi credo che se le pagassero io però non mi sono accorto di avere le vasi non so se voi chi guarda con questo indice acclusatore dove lo buttate le tasse allora Marta Bonafoni aspetta le aggiungo un tassello e riportiamo a mano a Leo Gullotta questo è l'elemento materiale poi c'è l'elemento dell'immaginario il linguaggio il pensiero guardi come la giornata della donna è stata festeggiata in Rai Rai News Dio mi fece donna e mi ha scavato dentro mi ha reso fabbrica di esseri umani ha intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero dei miei ormoni ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me perché irrigasse tutto il mio corpo nacquero così le idee i sogni l'istinto tutto quel che ha creato suavemente a colpi di mantice e di trapano d'amore per cui mi alzo orgogliosa tutte le mattine e benedico il mio sesso Marta Bonafoni mentre si parla di mamma papà mentre si discute della bontà del salario come sta cambiando il paese? intanto il paese non è questa roba qua perché le piazze dell'8 marzo e quelle del 25 novembre per fortuna si riempiono di donne spesso giovanissime che rivendicano invece una vita non precaria un lavoro dignitoso un affitto con un sussidio che questo governo ha tagliato la possibilità di mettere su famiglia con chi si ama con chi si vuole e non con chi decidete voi per una qualche legge o qualche proclama e propaganda che fate poi voglio aggiungere una cosa Floris perché si fa fatica davvero a credervi rispetto alla giustizia visto che ogni giorno inventate un nuovo reato per mandare in galera esattamente i poveracci che diceva Francesco Storace però credo ci sia una strategia in tutto questo e sia esattamente nascondere che invece sulle imprese sullo sviluppo sulla qualità del lavoro sugli asili nido non state combinando nulla Luca Paolo Barnacci Luca Paolo buonasera ma cosa faccio ma quando arriva sono qui da domenica pomeriggio cosa sta facendo sto aspettando il vento del cambiamento arriverà anche qui in Abruzzo per spazzare via il governo delle destre guarda che per il vento è un po' tardi i risultati di domenica sembrano dire proprio un'altra cosa allora non siamo frettolosi dalla Sardegna all'Abruzzo allora sono 600 km mettici anche i caselli le pause pipì ma a momenti arriva scusi un attimo Boccia scusa che sei lì a far niente mi vai a controllare se le finestre sono aperte perché qua è ferma guardi in faccia alla realtà in Abruzzo il suo vento del cambiamento non ha soffiato e dice non lo dico io 53% preso da Marsiglio insomma il vostro candidato si è fermato al 46 e mezzo Schley cosa fa? eppure dalle previsioni sembrava allora reagano però io l'avevo detto di non mettere Santori al meteo che da quando l'ha cacciato via dalle manifestazioni è più fumato di prima cosa c'entra Santori ma lei pensava davvero di vincere mi sono anche impegnato in prima persona ho fatto il tour elettorale otto comizi in soli due giorni a sparare supercazzole francamente non me l'aspettavo la sconfitta non si aspettava non mi aspettavo che in Abruzzo ci fossero otto città conoscevo solo Monfalcone l'Aquila forse vabbè Parchi l'Aquila sempre un ciali sono si è parlato di campo larghissimo soltanto uniti si vince ma non avete vinto se per questo non si è neanche tanto uniti tira una brutta aria con Conte allora parliamoci chiaro io su una cosa voglio essere netta quando si vince si vince tutti insieme e quando si perde si perde ci ha perso Conte ma ne ha visti i risultati non l'ho notato neanche quello che gli fai fulare e sudare quindi lei dice che in Sardegna come dire è stato un caso fortuito un caso fortuito no cosa allora una botta di culo ah ho capito quindi Sardegna è stata una vittoria di tir ma non si chiamava Todd è quello che ha vinto vabbè il campo largo ostenta lei cosa pensa allora è inutile girarci intorno io volevo un campo largo mi ritrovo in un campo deserto allora siamo due gatti non ci vota nessuno e ora ho anche tutti contro quelli dalla mia cosa intende fare quindi allora dobbiamo rimanere saldi sulle nostre posizioni userò le parole di quell'intellettuale quello che diceva stiamo uniti Pasolini no Gianni Morandi ah ok quali sono le prossime mosse allora guardi io direi che adesso stiamo anche un po' fermi ecco bravo perché questi alti e bassi non fanno bene eh sì due settimane fa stavo salendo al colle con la lista dei ministri adesso faccio le fotocopie in siglideria il colle non c'è mai stato se l'ha inventato vabbè buona dai ci siamo capiti allora voglio dire si devono proprio fare due elezioni al mese e weekend al mare cioè non va più di moda bisogna per forza fare la gara chi ce l'ha più lungo ogni tre per due non vorrei deludere ma il mese prossimo si va in Basilicata con chi va? no lei va in Basilicata ci sono altri regionali non avete neanche ancora il candidato credo vabbè meglio è la volta che vinciamo dopo i risultati di domenica ha sentito Conte ha sentito Calena no 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 non ci sentiamo mai cioè solo messaggini abbiamo fatto la chat sì l'ha fatta Conte lui l'amministrator l'ha creata lui ah e che come si chiama questa chat? ciao amore ciao ah bene bene ma lei è sicura che questa alleanza con Conte insomma allora io no mollo piuttosto che rinunciare all'alleanza con i grillini guardi preferisco guardi perdere le elezioni eh ma guardi che le riesce bene finora eh eh sì onorevole questa era cattiva eh va bene non si dia per vita no dice che riconto le schede eh no avete perso guardi soffio va bene arrivederci Schlein arrivederci il bis di Luca Paolo benvenuto Carlo Calenda leader di azione benvenuto Roberto oggi è uscito il suo nuovo libro Il coraggio vince per PM generale cominciamo subito dal cartello 13 per che cosa lei è indagato per istigazione all'odio razziale dalla procura di Roma dopo un esposto proprio del sindacato dei militari anche Paola Egonu l'ha denunciato per diffamazione lei dice che è stato frainteso e eh vediamo le frasi eh del cartello 13 eh dobbiamo chiamarli gay pederasta invertito finocchio culattone sono ormai termini da tribunale anche se Paola Egonu italiana di cittadinanza è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità cari omosessuali normali non lo siete fatevene una ragione siete una minoranza che Italia spera di riuscire a trasformare in che cosa spera con il suo lavoro anche di scrittore di cambiare le idee degli italiani cosa vuole lei allora nel libro io ho rappresentato una realtà che mi appare e che tutto sommato potrebbe apparire anche a tanta altra gente che l'ha letto devo dire che su queste frasi però avete diciamo difettato di rappresentarle un po' più in maniera estesa perché per esempio sulla prima esatto sulla prima io non ho fatto altro che dire ma come mai li dobbiamo chiamare con un termine che proviene da un'altra lingua quando in italiano ce ne sono almeno 20 di cui sicuramente alcuni sono offensivi ma un altro che non avete riportato che è quello di uranista che anche io ho scoperto consultando i dizionari potrebbe non essere offensivo e potrebbe essere utilizzato per rappresentare con la nostra amata lingua chi ha un atteggiamento sessuale diverso dall'eterosessualità era solo una critica all'uso dell'inglese e non una critica agli altri termini Carlo Calenda no non lo credo perché vede la ragione è abbastanza intuitiva quei termini sono legati e sono stati usati in stagioni in cui gli omosessuali erano perseguitati picchiati reclusi e come tale è esattamente la stessa ragione per cui in America non si usa il termine negro perché appartiene a una stagione in cui queste persone sono state perseguitate io capisco che oggi c'è una cosa di dire dai quanto si stava meglio quando prima tutti questi non c'erano e capisco che il suo desiderio è di quando non c'erano lo posso dire come ha detto i froci i negri se stava meglio però vede il punto di rimente non è solo il fatto che questa è una posizione a mio avviso vagamente razzista perché uno ha persino diritto a essere razzista in una democrazia liberale il problema che lei lo ha espresso da generale e come tale custode dei valori della Repubblica assolutamente impegnato nella terzietà come le ha detto la Commissione che l'ha sospeso e da questo punto di vista il problema che io mi pongo ancora più delle frasi per quello che sono è il danno che lei ha fatto alla divisa che è una cosa fondamentale perché l'esercito italiano non solo merita rispetto ma è anche un pilastro fondamentale della Repubblica e lei mi dispiace dirlo lo ha danneggiato a questo è un suo parere io sinceramente anche della Commissione ma infatti non tratterò questo argomento perché lo ritengo un argomento ancora aperto visto che presenterò ricorso e le mie istanze le ho presentate nelle mie memorie difensive peraltro ho specificato in maniera molto chiara che parlavo a titolo personale e non quale membro attivo di un'istituzione e questo è consentito ma la domanda non era proprio quella io riflettevo sull'offensività o meno di quelle frasi io non ho mai detto che gli omosessuali devono essere chiamati con quegli epitoti con cui venivano chiamati nel passato quando erano perseguitati discriminati e tutto il resto ho solamente cercato su un vocabolario una ventina di sinonimi di quello di gay provenienti dalla lingua italiana dicendo attenzione ci sono tutte queste parole disponibili molte sono offensive alcune no oppure si potrebbe anche però sta ridimensionando il suo pensiero quindi la sua critica è come rampeggio contro le parole contro le parole ma generale posso chiederle una cosa scusi che vuole dire ma le sembra che la questione sia questa cioè se noi usiamo il termine pederasta o gay quando lei scrive che chi è gay non è normale lei deve pensare a un ragazzo giovane che ama un altro ragazzo e che vede un generale che ha grande successo ma è un generale è la persona che è preposta a difendere tra l'altro lei ha fatto una carriera insomma importante io l'ho vista la carriera che ha fatto e deve pensare a quel ragazzo che immagina quel generale che è a sua difesa che pensa che lui non sia normale e questa roba qui è un po' deprimente io credo no? lei non lo pensa? no non è assolutamente deprimente perché io ho detto tante volte che da sempre ho rifuggito la normalità e che la normalità non ha un'accezione né negativa né positiva non è né migliore né peggiore è semplicemente una questione statistica peraltro gli omosessuali si definiscono loro stessi come non normali perché la definizione universalmente accettata di omosessualità è di variante non patologica dell'orientamento sessuale la variante da definizione è lo scostamento da un modello di riferimento che rappresenta la norma per quanto mi inserisco in generale ma perché un operaio un idraulico un architetto deve sentirsi definire normale o normale da lei sulla base dell'unità di misura la sessualità che ha scelto lei no non è che si deve sentire o non sentire non normale è una espressione ripeto con connotazione statistica ma perché lei tiene la statistica degli omosessuali ma non la tengo io la tengono tutti gli istituti di statistica che la pubblicano che ci interessa ma infatti chi non è interessato non compra il libro non lo legge e la cosa non dice a lei che cosa interessa a me interessa anche le interessa che un ragazzo giovane ami un altro ragazzo una ragazza ami un'altra ragazza e qual è questo mondo al contrario cosa c'è del contrario nel fatto questo è successo nella notte dei tempi lei ha citato una serie di generali diciamo come esempio di macismo ma le segnalo che Alessandro Magno era innamorato di Effestione Giulio Cesare ha avuto rapporti con Nicomede di Bitinia Traiano era completamente omosessuale ha portato l'estensione massima all'impero romano Adriano ha divinizzato il suo amante Antino allora e quando lei scrive fatevi una ragione non è naturale non è vero e lei su questo deve essere se posso un po' più diretto non è vero che non c'è una connotazione negativa c'è in pieno una connotazione negativa e credo che io si agganci che credo immagino si agganci all'idea che lei ha della normalità ma questa cosa qui come io l'ho detto nulla question uno ha diritto a essere in Italia razzista non razzista cioè il diritto la libertà di opinione purché non inciti all'odio il problema però è un altro ed è quello che gli ho detto prima che lei è un'istituzione di questa Repubblica terza e ha comandato probabilmente soldati che erano omosessuali e che hanno letto il libro e che hanno pensato ma questa persona non ci considerava normale e tutto questo perché occorre farlo questi sono i problemi del paese lei si sta candidando credo alle elezioni ma e questo è non lo so mi pare di aver capito ma questo è il problema del paese vuol dire che l'onorevole probabilmente conosce più di me ho visto una dichiarazione di Salvini forse mi sbaglio se il termine non l'ha distrutto no sono molto corteggiato ma guardi sa perché io me lo auguro che lei non si candidi con Salvini perché Salvini è una persona che nel Parlamento europeo ha detto io darei indietro due mattarella cioè il nostro Presidente della Repubblica per mezzo Putin e che un generale che giura sulla Costituzione che riconosce nel Presidente della Repubblica anche il Capo delle Forze Armate l'idea che quel generale si candidi con una persona che può dire una cosa del genere a me dispiacerebbe per lei e per quello che ha fatto nella sua vita abbiamo cambiato discorso parlavamo della normalità allora ritorno su questo aspetto come dicevo prima lo spiego bene nel libro la normalità non ha un'accezione né negativa né positiva mi dispiace che lei lo interpreti in questa maniera perché è la maniera scorretta di interpretare fatevene una ragione che vuol dire fatevene una ragione è la maniera scorretta di interpretare e quindi forse vi faccio passavanti che vi può aiutare passando anche per la vicenda dell'Egonu lei in pratica denuncia una sorta di dittatura delle minoranze ma questo ne parliamo dopo se d'accordo mi spiega in base a quale concetto rivediamo la frase la Egonu non è rappresentativa dell'italianità allora consideri se lei parla dell'Italia da cent'anni a questa parte se andiamo sulla vostra Mataroma c'erano tutte le etnie possibili ma soprattutto ci sono dentro di noi cioè lei per esempio non è precisamente il modello dell'Ariano è probabile che dentro di lei ci siano influssi arabi che ci sono stati longobardi e bizantini e quindi l'Italia è stata proprio il posto in cui dal punto di vista se vogliamo usare questa parola anche questa mi sembra molto poco rilevante rispetto ai problemi che abbiamo però etnica ha avuto un tale complessità di etnie insieme per cui i tratti sommatici gli stessi italiani sono diversissimi cioè lei quando fotografa l'Italia ideale cui bisogna assomigliare ma guardi non la fotografo io alla telecamere faccio fare un giro tra il pubblico eccola l'italianità ma lei quello che ha detto quello che ha detto l'onorevole Calenda lei dice che suo nonno poteva essere bizantino poteva essere orientale poteva essere tutto un italiano ma guardi è quello che ho detto nel libro e che ripeto continuiamo a travisare l'Italia è il paese degli intrecci delle mescolanze delle etnie ma non fino al punto di arrivare a Legone ma attenzione questi intrecci grazie al tempo perché sono passati 3.000 anni ci hanno conformato in quello che siamo cioè lo fermiamo a quando l'Italia? lo fermiamo oggi finora ci possiamo trasformare poi c'è un momento in cui ci fermiamo quello in cui si somiglia a lei oggi noi siamo questi ma non c'è l'italianità ma scusi e fra 300 anni probabilmente l'italianità sarà diversa ma non c'è un'italianità ma oggi è questa ma scusi e quindi scusi mi faccia finire e quindi il modello di oggi dell'italianità è rappresentato guardi cultura e civiltà sono sinonimi da un punto di vista dell'antropologia e quindi la civiltà rappresenta quelle caratteristiche peculiari di un gruppo sociale da un punto di vista abbiamo la foto dei tre atleti intanto che replicano ma sono perfettamente italiani l'unico problema ma sono gli italiani sono così ma guardi no perché se lei no perché non le sognano tanto non è così la maggioranza degli italiani hanno le caratteristiche ma chi se ne frega ma chi se ne frega quando c'erano gli sbevi avranno pensato che gli sbevi non avevano la caratteristica oggi questi sa perché sono italiani perché studiano in Italia hanno scelta di un'anzia italiana e per la repubblica italiana che lei ha promesso di servire sono italiani e ogni discriminazione in cui si dice a quel ragazzo lì che si fa un mazzo così a scuola che magari viene anzi viene da una situazione svantaggiata che lui mi dispiace ma non è italianità a me dispiace ma a me Paolo Egonu mi sembra più italianità di lei in generale lei continua a travisare ma non si può dire scusi ma perché non dice le cose come le vuole dire lei fa un libro in cui spiega lei fa un libro in cui spiega continuamente che i gay devono capire che quella non è nazionale e poi dice no ma volevo dire che ci dobbiamo volere tutti bene in qualche modo ma dica una cosa come la pensa diciamo il successo del suo libro è stato anche legato alla scorrettezza alla dirompenza di alcuni alcuni concetti in qualche modo sembra volerli rendere digeribili a chiunque ma allora diciamo dice Calenda già ne abbiamo di politici ma poi che allora perché dirlo cioè voglio dire qual è il punto cruciale per l'Italia qual è che Paolo Egonu non è l'Italia di nera forse il punto del generale che vuole spiegare ma ora tocca a lui forse è il passaggio al prossimo concetto perché vedo che si dilunga parecchio la natura delle minoranze prego no aspetti che spiego questa questione che è importante differenza e discriminazione sono due cose totalmente diverse non è vero me la fa spiegare o la vuole spiegare parte dalla differenziazione identificazione di gruppi etnici o di orientamento sessuale me la fa spiegare e me la fa spiegare diciamo che uno abbia voglia di ribattere subito però lasci parlare differenza e discriminazione sono due cose totalmente diverse la differenza parte dal dal vedere che due persone per etnia per religione per credo politico hanno delle idee hanno delle conformazioni diverse la discriminazione invece si basa sulla dignità e sui diritti e nel mio libro non c'è una pagina una riga una parola che neghi dignità e diritti questo è un concetto liberale mi dice perché c'è il concetto di maggioranza che sporca questo concetto liberale e secondo me perché i liberali si caratterizzano per voler la maggioranza degli italiani si caratterizza per voler difendere le minoranze lei perché dice qua abbiamo il pericolo che si stia diciamo capovolgendo il mondo al contrario e le minoranze comandano dov'è che comandano le minoranze? le differenze sono una ricchezza e quindi secondo me nel mio pensiero vanno esaltate io sono sicuro che Paolo Egonu è fiera di essere di origine nigeriana la denunciata e ho capito ma probabilmente perché non ha capito questa cosa se lei va sul profilo wikipedia di Paolo Egonu c'è scritto pallavolista italiana di origine nigeriana se lei va ma lei sarà di origine non lo so calabrese di dove è originario io sono di origine sarda sono estremamente orgoglioso di essere di origine sarda ma se lei mi dice non è il classico romano perché ha dei tratti un pochino strani io le dico ma come si permette? se lo ricorda Chris Foam era un grandissimo campione di ciclismo ed era soprannominato il kenyota bianco il keniano bianco e nessuno ha mai detto nulla se lei dice oggi l'italiano nero la denunciano gli americani di neri si nominano afroamericani e ne sono orgogliosi se lei dice oggi a un nero italiano afro italiano la denuncia allora andiamo per ordine però prego Calenda questo è il punto di mente perché lui dice a forza di rispettare le minoranze abbiamo perso delle libertà primo punto è questo tutte le discriminazioni nascono dall'identificazione delle differenze tutte nascono dal fatto di dire tu non sei normale tu non sei italiano nella storia è sempre stato così generale in secondo luogo c'è un tema è vero e io condivido un punto che io stesso dico quando tu dici non puoi mettere un presepe in una scuola perché offendi un ragazzo che magari non è cattolico dico c'è una prassi di tradizione e quella va gestita con grande attenzione in tutto il mondo si decide quando mi dicono a me guarda non puoi fare biancaneva i sette nani la devi fare senza nani perché non è politicamente corretta e i nani devono essere di etnie diverse quella roba là è ridicola e controproducente ma parte da un presupposto noi siamo la Repubblica Italiana nella Repubblica Italiana chi è cittadino italiano è italiano non conta l'etnia non conta l'orientamento sessuale perché siamo una democrazia liberale non siamo la Russia di Putin non siamo paesi che fanno dell'etnia o dell'orientamento sessuale motivo di discriminazione e il fatto e questo fatto più di tutti più di me lo deve conoscere lei perché lei quella Repubblica ha giurato di servirla con onore e pertanto nel momento in cui i suoi colleghi le dicono io ho candidato o candiderò con me all'Europa il generale Camporini che lei forse conosce che è stato uno dei suoi critici principali per questa ragione perché lei non fa solamente un danno a quel bambino a cui dice lei non è normale o non rappresenta l'italianità essendo lui che va a fare le gare per l'Italia ma è anche alla divisa che lei ha fatto generale Vannacci prego non è vero non ho mai detto non sei italiano sto dicendo che lui rappresenta con orgoglio l'Italia io ne vado fiero sto dicendo solamente che lui è un italiano dalle caratteristiche diverse e che è una ricchezza perché ogni giorno noi ci arricchiamo di questi italiani dalle caratteristiche diverse e non c'è nessuna discriminazione nel dirlo Chris Foam era fiero di essere il keniano bianco pochi mesi fa è stata eletta Miss Zimbabwe che è una signora bianca e bionda il 98% della popolazione zimbabwana non l'ha riconosciuta perché dice il 98% degli zimbabwani sono neri lei non ci rappresenta ed è una cosa normale perché si basa sul criterio della maggioranza e il criterio della maggioranza conta la verità non si può falsificare ma no ma scusi ma non è questione di falsificarla è una questione diversa lei ha visto il primo ministro inglese Sunak come no? l'ha visto le sembra diciamo l'archetipo dell'inglese tradizionale di 150 anni fa no ma nessuno mette in dubbio il fatto che l'inglese è stato eletto come conservatore ma certo il punto se lei vuol dire che la lettura del suo libro noi la dobbiamo interpretare così c'è una grande varietà di persone che hanno orientamenti sessuali etnie diverse e questo è un bene per l'Italia che deve diventare ancora più aperta allora io le dico che il suo è un libro al contrario perché non c'è nessuno che l'ha letto che l'ha capito in questo modo quindi è un libro al contrario quindi io le do il benvenuto tra i progressisti penso che lei sia un campione un capofila dell'amore per le differenze bisogna solo spiegarlo alla Egonu alle persone che l'hanno denunciato ai suoi colleghi che l'hanno sospeso dopodiché se lei ha fatto questo e lo rifà stasera spiegandolo a tutti noi siamo felicissimi perché c'è un nuovo progressista in Italia l'unica cosa mi faccio la cortesia non si candidi con la Lega perché se uno insulta il Presidente della Repubblica lei che è generale e quel Presidente della Repubblica l'ha difeso non può fare una cosa del genere la ringrazio per il consiglio il primo ministro Sunak è orgoglioso di avere un'irigine indiana così come Obama era orgoglioso di avere un'irigine kenyota quindi ma io non penso che Egonu abbia mai negato le sue origini africane ma io non ho mai detto si è seccata quando lei ha detto non rappresenta l'italianità essendo lei un'italiana come lei ma l'italianità guardi no l'italianità è diversa perché l'italianità rappresenta l'italianità in generale quella che io definisco come italianità quella che lei definisce come italianità certo ma è una mia opinione poi può essere non condivisa ma non è offensiva cioè secondo lei gli italiani sono di tratto genetico differente perché non valuta quali erano gli italiani prima di quelli che se li ricorda lei gli italiani oggi hanno per la stragrande maggioranza tratti somatici caucasici senta posso fare una domanda diretta perché io sto scoprendo un progressista in lei e sono molto interessato e la domanda è questa per esempio un ragazzo che studia in Italia dovrebbe avere la cittadinanza italiana cioè lo Ius Cultura dipende da cosa? ma guardi non ho studiato esattamente che cosa regge oggi lo Ius Cultura o che cosa regga la concessione della cittadinanza o meno però ci si può riflettere adesso mi prende su un argomento che io non conosco nel dettaglio quindi non le so rispondere secondo me la posso dire una cosa la questione di come è fatta Paolo Egon non è una questione politica perché riguarda Paolo Egon la questione dello Ius Cultura è un fatto politico perché è una decisione e riflette tra l'altro visto che lei è un appassionato di romanità anche io lo sono il fatto che i romani ci hanno costruito l'egemonia nel mondo sta facendo cosa? allargando la cittadinanza allora siamo arrivati al tempo Massimo le devo chiedere una cosa il cartello 16 lei dice Mussolini è uno statista lo dice la Treccani eccolo qua cos'è uno statista? uomo donna di stato persona che ha una profonda esperienza teorica e pratica dell'arte di governare uno stato allora la mia domanda è semplice come giudica uno statista che ha diviso il paese ucciso persone promulgando le leggi razziali appoggiando l'olocausto ucciso e imprigionato oppositori politici e mandato l'Italia in una guerra insensata cioè Benito Mussolini come lo giudica? non lo giudico perché è la domanda la quale ho risposto ho risposto questa domanda che le faccio io non le rispondo perché non voglio dare giudizi di un uomo politico e di un periodo storico che mi trascinerebbero su un aspetto politico mi perdoni le ripeto un uomo che ha diviso il paese ucciso persone promulgando le leggi razziali appoggiando l'olocausto ucciso e imprigionato oppositori politici e mandato l'Italia in una guerra insensata non vuole dare giudizio lo ha già giudicato la storia non c'è bisogno del mio giudizio ma no ma aiuta quando mi chiedono chi è Benito Mussolini e io devo dare una risposta da dizionario io rispondo che è uno statista ma io non le sto chiedendo questo lo sto dicendo come giudica un dittatore disprezzabile che ha causato tanto male in Italia lo ha già giudicato la storia ci sono tantissimi libri di storia perché c'è gente che dice bene le ripeto ci sono tantissimi libri di storia che lo hanno già giudicato non avete bisogno del mio giudizio il mio giudizio non lo tengo per me tuttavia è rilevante quando lei dice e limita il suo giudizio a uno statista perché quando dice è uno statista lei sta dando un giudizio e il suo giudizio è un uomo di stato e questo uomo di stato tuttavia ha fatto determinate cose che lei non è che non riesce a dire perché non ha un giudizio non riesce a dire perché come la questione diciamo pederasti come li chiama lei e neri deprima lei non vuole dire quello che è cioè io sono fascista che secondo me è più dignitoso perché uno non può dire e raccontare amici miei io non vi do un giudizio su Benito Mussolini perché il giudizio può essere cattivo medio buono articolato eccetera ma non darlo vuol dire che lei dentro di lei ce l'ha nel momento in cui lo chiama statista lo capisce allora io credo questo credo che ognuno uno può essere fascista perché uno può avere qualunque opinione siamo in democrazia liberale purché non incidi all'odio ma il problema è che non può fare il paravento cioè non può dire mezza cosa ultima parola vedo che l'onorevole Calenda conosce già il mio futuro perché sa che mi presenterò alle elezioni e conosce anche quello che io penso di Mussolini visto che io non lo ho espresso ma ce lo dica lei cosa ne pensa però lui lo conosce no non lo voglio esprimere perché le ripeto che è un giudizio che è già stato espresso dalla storia io le consiglio di farlo no i suoi consigli i suoi consigli io li accetto ma li valuto e poi rispondo in base alla mia coscienza però vede dentro qui le ripeto la questione che non va bene è la presa in giro ma non è una presa in giro perché lei il giudizio lo sta già dando allora io penso che si parli troppo di fascismo in Italia che non c'è un rischio di fascismo che del fascismo tutto quello che vuole ma se ti chiedono se mi chiedono che è stato il fascismo una brutale dittatura che si è allenata con Hitler ha contribuito a sterminare gli ebrei se lei questo non lo sa dire ha un problema le ripeto che Hitler ci aggiungiamo con un dittatore che Musciolini come Stalin è un uomo di Stato e mi limito a questa constatazione perché sono uomini grazie ai nostri ospiti e diamo un bel tornato a Pierluigi Bersani e con Pierluigi Bersani benvenuta Eliana Comun ignoranza CGL Pietro Senaldi con direttore di Libero Quotidiano Massimo Corsaro fiscalista già deputato di Fratelli d'Italia Senaldi ha vinto la destra in Abruzzo o la destra vince in Italia? Ha vinto la destra in Abruzzo ma la destra vince perché a mio avviso il giudizio della maggioranza degli isliani sul governo è ancora positivo d'altronde era stato presentato così male che resterà positivo a lungo perché quando tu lo presenti molto male in particolare il voto Sardegna-Abruzzo ha dimostrato che il centrodestra quando litiga perde e la sinistra quando si unisce perde Bersani Ma io credo che il giudizio degli italiani sul governo sia un po' più articolato di quel che diceva Senaldi adesso io penso che anche chi ha votato a destra non sia contento di questo governo sta lì per amor di Dio non si stacca ma credo che non sia contento per un fatto molto semplice Senaldi che se guardiamo le cose dal punto di vista della vita comune gli italiani in un anno e mezzo in un anno e mezzo non c'è stata una cosa che abbia fatto dire è un cambiamento in meglio ci sono state cose che la gente percepisce come peggiorate due cose in particolare la sanità e i salari questo non significa ancora che ci sia uno smottamento o un distacco ma io credo che la luna di miele sia finita e che adesso si tratti di vedere se si riesce a governare Massimo Gorsaro ma cosa dire che se le lune di miele finiscono in questo modo non dovrebbero esistere più i divorzi perché francamente mi pare che a un anno e mezzo quasi dall'insediamento di questo governo Bersani dice ci sono delle cose che vanno male per carità certamente tutto è sempre perfettibile per chiunque rilevo dei dati rispetto a quella che era stata la fotografia e lo spauracchio che la sinistra aveva raccontato all'inizio di questa avventura doveva essere un premier che ci mandava a sbattere in Europa non siamo mai stati così attenzionati e così considerati in campo internazionale da quando c'è la Meloni che fa il premier doveva essere un governo che andava a distruggere i numeri dell'economia abbiamo il record di occupazione abbiamo una borsa che non è mai cresciuta così tanto in termini di valore assoluto quindi valore delle aziende delle imprese parlo a un grande amministratore della sinistra che quindi sa di che cosa stiamo parlando e dell'importanza di queste cose perfetto cosa che non era mai successa prima forse ve la siete un po' raccontata ecco Floris se la sono molto raccontata in questi ultimi 15 giorni perché il vento che era cambiato in Sardegna intanto in Sardegna i partiti del centro-destra avevano comunque battuto come somma i partiti del centro-sinistra poi lì è stato sbagliato il candidato c'era la possibilità del voto disgiunto loro hanno scelto un candidato importante PD ha portato acqua ma era una contingenza dal punto di vista strutturale sbagliata l'analisi precedente se vogliamo parlare un attimo di economia però Corsaro seriamente tutti gli osservatori internazionali hanno capito questo noi siamo usciti dalla pandemia con una velocità in più nettamente in più rispetto al resto d'Europa per due motivi uno il contestato adesso super bonus due il fatto che unici abbiamo bloccato i licenziamenti e abbiamo dato garanzie all'impresa che hanno continuato a lavorare noi siamo adesso adesso tutti gli andamenti cominciano a flettere sono mega contento ma gli andamenti cominciano a flettere quando tu hai adesso avete squillato le tombe dice noi abbiamo il pil pro capite in questo momento il 2003 più alto d'Europa applausi piccolo particolare noi siamo gli unici rispetto a Francia Germania e Spagna che c'è calata la popolazione quindi se ti cala la popolazione il pil pro capite va su sono meno le teste sugli occupati io ripeto c'è un andamento demografico che fa sballare le percentuali c'è il fatto che abbiamo trattenuto al lavoro gente che doveva andare via infatti il problema rimane sui giovani il numero dei contratti a tempo indeterminato non tiene conto dell'enormità dei part time che sono a tempo indeterminato detto questo l'occupazione ha un dato con i tempi che corrono non disprezzabile sono il primo a dirlo anche qui però caro Corsaro noi stiamo perdendo produttività rispetto al resto d'Europa come mai allora aspettate perché come mai io dico perché noi se continuiamo a avere dei salari che sono cresciuti del 23 all'1,7 con un'inflazione al 5,7 e non ci preoccupiamo adesso avete ieri avete anche allungato i tempi di risposta al fisco per il dovuto nove anni a chi a chi dichiara il dipendente che glielo tirano via dalla busta paga e quel mese lì ha un problema non può mica diluirli in nove anni cioè la materia fiscale voi state devastando voi destra state devastando la generalità e la progressività del senato vi faccio solo vedere il cartello di quello che si riferisce Pierluigi Bersani quali sono le novità del fisco sono fondamentalmente due c'è la possibilità di rateizzare in dieci anni i debiti fiscali con un costo dello Stato naturalmente di 2 miliardi e mezzo per i primi 12 anni perché naturalmente i soldi intanto producono interessi l'agenzia delle entrate dopo 5 anni rinuncia invece rimanda il credito all'ente quando ti arriva la cartella dopo 5 anni l'agenzia delle estrate rinuncia questo però poi lei ci aiuterà a spiegare meglio Corsaro questo non vuol dire che il debito scompare ritorna al creditore il creditore che ci farà vedremo se manderà il recupero crediti privati oppure rinuncia e il buco passa al comune Senaldi questo però è un aspetto che ha evidenziato come urgenza non Corsaro la Meloni o la protervia di qualunque esponente della destra è stato un grido di allarme che ha manifestato il direttore generale dell'agenzia delle entrate che dice ragazzi io ho un magazzino di 1200 miliardi non prendiamoci in giro questi 1200 miliardi non li prenderò mai lo ha dichiarato il direttore dell'agenzia delle entrate che era il direttore dell'agenzia delle entrate anche nei governi precedenti Luigi questo è il problema dell'agenzia delle entrate il problema del paese è che non erano state pagate quelle tasse se posso quando dovute scusa quest'anno 25 miliardi di recupero della visione fiscale record per Bersani non interessa questo noi siamo saliti più in fretta perché siamo scesi più di tutti anche questo è storia abbiamo chiuso più di tutti questo lo sappiamo benissimo i dati dell'economia la sanità eccetera insomma avete impoverito il paese per 20 anni ora che povero dite a quello che è arrivato dopo un anno il paese è povero per colpa tua adesso non è che gli italiani sono nati questa mattina Bersani in realtà su questa cosa dell'evasione queste misure che sono state annunciate ieri sono l'ennesimo l'ennesimo messaggio che questo governo a partire dal 25 settembre del 2022 con estrema linearità dritto come un treno su tutto il resto cambia idea ogni due ore ma su questo va dritto come un treno e il messaggio è noi saremo il governo tollerante nei confronti degli evasori non hai pagato le tasse proveremo un modo oggi Meloni oggi Meloni era sulle agenzie ha detto lo Stato non deve deve lasciare in pace chi produce chi produce la ricchezza non va vessato perché la lotta l'evasione fiscale secondo questo governo è una vessazione allora io penso che la lotta che l'evasione fiscale è un reato e mi aspetto dal governo che dica esplicitamente che è un reato che rompe il patto sociale che distrugge la sanità pubblica e che scusate è un insulto un insulto a chi le tasse giustamente e le paga fino all'ultimo centesimo a partire da lavoratori e lavoratrici dipendenti a partire dai pensionati che le paghiamo a monte è talmente falso che la parola d'ordine sia liberata l'azione degli evasori fiscali che come ricordava Senaldi nel periodo di costanza di vigenza di questo governo c'è stato il massimo del recupero del recupero del recupero però se io non posso interrompere gli affari lasciatelo concludere a lei a Roma aspetti tocca a lui faccio una precisazione sono quei 4 miliardi in più che sono dovuti alle varie sanatorie comunque per fare il record intanto le sanatorie storiche in questo paese la volontà di disclosio eccetera eccetera voglio ricordare che le ha fatte sempre un governo in cui c'era il PD all'interno o con funzione apicale o con funzione di supporto tutte le volute di disclosio di questa storia sono state fatte dai governi di sinistra poi saremmo noi quelli che dicono agli italiani di non pagare le tasse ma c'è un dato fondamentale su cui ha sostanzialmente assolutamente ragione il Presidente del Consiglio dal mio punto di vista che è quello che noi dobbiamo smettere di essere il paese in cui la tassazione è più elevata in cui c'è la maggiore differenza in cui c'è la maggiore differenza in cui c'è la maggiore differenza tra quello che pagano le imprese per dare lo stipendio ai lavoratori e quello che i lavoratori percepiscono l'esagerazione del curio fiscale che si paga in Italia che fa in modo che le imprese debbano pagare un'altra volta andiamo a me vi faccio vedere una cosa stiamo su di me quello di cui si parlava la frase del pizzo prego adesso sono talmente d'accordo che adesso io riprendo la proposta di Pannella e dico cari sindacati facciamo una bella iniziativa per togliere il sostituto d'imposto non la voleva il PD non la voleva il PD di Bersani perché tu devi spiegarmi cambia idea tu devi spiegare chi governa cambia idea tra flat tax cedolari secche forfait e robe varie come siamo arrivati voi l'avete fatto ad avere il fatto che l'85% dell'IRPEF la pagano dipendenti e pensionati si chiama Gustafaga Padana l'ha inventato Umberto Pochi si chiama Gustafaga Padana di Giorgia Meloni concluda i quali pagano anche le sovratasse regionali e comunali sempre per l'86% e non hanno tutte quelle belle belle allora dice chi produce ricchezza non va disturbato benissimo Meloni anche perché il lavoratore anche perché tendenzialmente il lavoratore esiste perché ci sono quelli che devono dare un lavoro altri ospiti se no non esisterebbe il lavoratore è uno che produce ricchezza o pettina le bambini benvenuto Stefano Zurro salutiamo questi ospiti ci aggiungono altri ospiti mentre si scegliano gli altri ospiti che non sono pochi e piano piano ve li presenterò vi presento l'Eugullotta bentornato grazie attore che tutti conosciamo iniziamo da lei mi dice che clima si respira nel paese pesante perché pesante privo di motivazioni non ci sono percorsi interessanti di nessun tipo c'è soltanto un continuo vespaio non si parla di diritti non si parla di salute non si parla di di mafia non si parla di lotte è tutto un io tu loro però siccome è un momento io sono un cittadino ma come me tantissimi non capiscono non seguono manca un terreno manca qualcosa mi sento imbarazzato spesse volte a sentire dei discorsi a sentire anche pronunciarsi su determinati argomenti cosa pensa il governo Meloni credo che ancora una volta bisogna dire che non ha fatto i conti col proprio passato è furba cioè si attesta prima non pensava così dell'America adesso il bacino è molto importante invece perché lo sfrutta come 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 notizia importante da vedere guardate come mi guarda il mondo è tutto una carezzina ma sostanza poca ciccia poca e del passato che intende dire perché è una destra radicale dice lei lei diceva non si parla di diritti molti ne parlano dicono anzi che sono a rischio ma è tutta una finzione tutto mettere una finzione di carezze finte però continuano con le loro repressioni insomma a partire da cutro è già imbarazzante che tutto sia finito così non se sa non bisognava parlarne tutto è il fronte dell'immigrazione poi è stata contestata sul fronte della sicurezza sul fronte dei diritti civili sul fronte delle discriminazioni no lei non parla lei fa i suoi viaggetti non incontra la stampa tu con me non parli decido io come quando e perché beh più di questo essere imperante che cosa ci si deve aspettare Moiro Mazza che ne pensa giornalista direttore 1 Tg2 che ne pensa di questa analisi del clima nel paese poi andremo naturalmente ai fatti di domenica ho sospetto che non viviamo nello stesso paese con lotte di Dio probabilmente delle collocazioni diverse veniamo da un riscontro elettorale importante importante oggettivamente ma simbolicamente per la bolla mediatica e politica delle due settimane precedenti in cui questo consenso l'unodiniera e basta meloni elettorato se c'è amore è matrimonio l'amoramento è passato perché resiste si consolida questo è un problema per l'altra parte diciamo stamattina sentivo una canzone una vecchia canzone alla radio di Roberto Vecchioni è andata bene si pensava la canzone per Laura no no fammi dire a un certo punto una frase che dice era una guerra un po' del cavolo mancava un senso una prescatola un'idea di cui ecco il centro-sinistra Isabetta Piccolotti che ne pensa poi arriviamo piano piano vi presento tutti gli ospiti io penso che ci sia appunto questo vuoto di argomenti che Gullotta in qualche modo definiva noi abbiamo un problema a far emergere la vera agenda del paese dobbiamo discutere dei salari troppo bassi e quindi magari della detassazione degli aumenti contrattuali e invece discutiamo di grilli e invece discutiamo di rave e invece discutiamo di tantissime misure sostanzialmente inutili e allora questo è un riverbero anche sul comportamento elettorale delle persone in tanti stanno a casa perché non sentono i loro temi al centro altri magari si fanno ingannare da discussioni fatue e finisce che il problema per esempio grande della sanità rimane lì tutto intero in Abruzzo c'è un problema che le elezioni non cancellano che sono le liste d'attesa infinite vuoi vincere ma il tema rimane Massimo Magliari che ne pensa questa trasmissione la stiamo registrando oggi facendo oggi dopo le elezioni oppure prima mi sembra di leggere un copione già scritto in mille salze va tutto male la meloni qua la meloni qua poi vanno gli italiani a votare e musica è un'altra infatti la gente non va a votare allora le do una notizia che in Abruzzo ha votato più gente che in Sardegna si legga i dati che sono usciti definitivi che sono usciti e Repubblica ha avuto la faccia tosta di scrivere che l'astenzionismo ha penalizzato D'Amico il candidato quando non è esattamente il contrario sono bugiardi sono tutti bugiardi bugiardi chi? secondo il discorso che lei sta facendo sono tutti bugiardi io sto prendendo dei numeri io ho tale rispetto e ammirazione per lei che francamente polemizzare con le mie imbarazza molto io la seguo quando stava a Bagaglino è uno di tanti spettatori di Bagaglino quello è il mio lavoro esattamente però voglio dire che lei ci venga adesso a dire che sono bugiardi io non vengo a dire a nessuno è una mia impressione da cittadino e da cittadino ho avvertito determinate notte come ha fatto in maniera magistrale tante volte oppure altri personaggi io la ringrazio la ringrazio moltissimo però mi piace parlare non deve essere un limite essere bravi ma teniamoci ai fatti infatti io li definisco così qua i numeri dell'astenzionismo in Sardegna e in Abruzzo sono più la gente è andata a votare più in Abruzzo che in Sardegna il quotidiano della sinistra italiana Repubblica ha titolato il giorno dopo l'astenzionismo punisce mi pare che però Gullotta inquadrasse il problema un po' più da lontano diceva al di là di un argomento soltanto la passione per la politica la partecipazione se vogliamo andare a vedere il pianisteo continuo allora andiamo a vedere l'analisi dei voti e Marsilio ha preso più voti in parlo dell'Abruzzo ovviamente non me la dico nelle zone più deboli socialmente nelle zone rurali e non in quelle urbane nelle zone meno acculturate ma anche in quelle acculturate in maniera più giovanile il consiglio è chiarissimo ci aggiungo pure e allora cosa ha detto il ministro San Giuliano guardiamo poi viene a comodario Lardella e vengono ancora a raccontarci le favole questa regione non può tornare indietro non può tornare nella palude del PD non può tornare nelle mani dei comunisti perché io li chiamo nome e cognome sono ancora comunisti radicati in una ideologia nefasta e antiliberale sono stati finanziati pensate i film con 14 20 spettatori vado ad ingrassare il solito regista che poi organizza la terrazzata romana della gauche caviar con la R moscia e che si raccontano fra di loro di essere i migliori i più colti di essere delle super persone che ci guardano dall'alto in basso la forza è nardella perché parlava di PD mancava solo che dicessi che i comunisti mangiano i bambini così siamo a posto siamo ancora agli anni 70 il problema è un altro è che si continuano a alimentare discorsi vuoti risse polemiche attacchi personali dossieraggi quando il tema rimane sempre il solito a noi mancano 80 mila tra medici e infermieri la sanità in una situazione disastrosa c'è il problema della sicurezza nelle nostre città mancano 26 mila tra carabinieri e poliziotti si annunciano si annunciano un sacco di cose non se ne fa neanche una dal taglio delle accise alla diminuzione dei costi energetici all'aumento dei salari niente di tutto questo quando passiamo quando passiamo Florio dal governo dei annunci al governo dei fatti perché siamo sempre a questo no ascoltando ascoltando un'ardella mi sembrava di ascoltare qualcuno che che fa parte di un partito che in questo paese non ha mai governato insomma mi sembra che negli ultimi anni ne avete governato spesso è la storia storia no avete poi francamente anche questa cosa di dire basta col dossieraggio col parla al mare dell'avversario avete impostato una campagna elettorale fatevi una volta ogni tanto non sempre una domanda su come e per quale motivo perdete capisco che oggi siete un po' in depressione per questa cosa dell'Abruzzo doveva essere un campurato si è trasformato in un campo di fango in cui siete rimasti impantanati ma il fango l'avete buttato voi per un mese e oltre sulla Premier sulla sua famiglia su Giorgia Meloni su Marco Marsilio addirittura su Marco Marsilio avete detto di tutti i colori che non era presente sul territorio eccetera eccetera gli abruzzeti vi hanno smentito in maniera inequivocabile quindi fatevi un'analisi di coscienza che forse siete voi che fate questo tipo di politica dello sputtanamento dell'avversario politico in Cardenaro brevissima poi abbiamo ha un problema con i conti la matematica prima il centrodestra aveva due regioni Sardegna e Abruzzo ora ce n'ha una sola mi dispiace guardate quante ne arrivano tra l'altro cartello sulle prossime i prossimi passaggi elettorali perché da adesso alle europee è tutta una tirata basilicata europee piemonte anzi anche oltre le europee piemonte insieme alle europee poi 27 capoluoghi Bari, Cagliari, Firenze ancora da definire la data dell'Umbria quanto periodo ci aspetta così guardate il comizio di Giorgia Meloni quello che le ha dato alla fine la vittoria quello dell'elmetto in testa guardate succederà di tutto c'ho l'elmetto io ho già messo l'elmetto fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci possono fare tutto quello che vogliono ma noi non molleremo mai ti molla in voglia no ma francamente è imbarazzante molto ed è imbarazzante ha ragione Leo Gullotta il clima nel paese è pesante e di fronte a un dato che è quello di un astensionismo così alto ovunque francamente sia in Sardegna che in Abruzzo ma come si fa a negare questa cosa un italiano su due non va a votare questo è un problema per tutti indipendentemente dagli schieramenti ed è pesante il clima perché ci sono i salari sono rimasti al palo il ceto medio si è impoverito a Bergamo dove vivo ho uscito fuori che per una visita oncologica devi aspettare due anni e abbiamo per due settimane parlato di una campagna elettorale imbarazzante che nemmeno i film comici mostrano quelle cose lì e faccio notare anche un'altra cosa per qualche giorno per qualche giorno si è parlato finalmente di quello che era successo alla strage a Firenze dell'Esse Lunga è calato di nuovo il silenzio anche su quello per vedere queste scene qui di Tocaro sono altri l'azienda che si è un altro non portate argomenti giocate su altri temi e su quelli perdete dice Tocaro Tocaro il battista secondo Confesercenti il livello di salari medi in Italia è più basso di quello pre-pandemico e in questi anni l'inflazione si è mangiata sostanzialmente determinati aumenti salariali in media che ci sono stati il paese reale è questo il paese reale veramente è un paese che fa fatica e infatti non vota prima il dottor Magliaro diceva che paragonava l'astenzionismo dell'Abruzzo con la Sardegna abbastanza improprio bisogna valutare l'Abruzzo bisogna valutare l'Abruzzo non sono io che paragono in Abruzzo ha votato come percentual un numero inferiore rispetto alle elezioni regionali cinque anni fa è la prima volta nella storia che un'intera provincia quella di Chieti che se non erro è la provincia più popolosa dell'Abruzzo scende sotto il 50% cioè a Chieti tra l'altro città universitaria è votato meno del 50% il 48% perché per me io poi lo dico senza generalizzare quando io ascolto esponenti del centro-sinistra parlare di busti di Mussolini di Casa Larussa o San Giuliano parlare non dobbiamo tornare al passato quando dietro tra l'altro c'era lo scudo crociato Libertas della democrazia cristiana e parla di comunisti paragonando poi quelli del Partito Democratico al comunismo e proprio c'entrano proprio niente col comunismo i pidini di oggi magari c'entrassero qualcosa arriva a dire questo io non sono mai stato comunista in vita mia io credo appunto che determinate dichiarazioni che non descrivono il paese reale spingano sempre più persone a disertare le urni Mauro Mazza giusta replica non sono i menefreghisti chi non vota oggi non è un menefreghista che dice me ne infischio delle elezioni non mi importa nulla della Repubblica o dell'educazione civica no è gente appassionata di politica che però non si appassiona alla partitocrazia odierta però che lascia governare chi vince le elezioni appunto ma è vero quello che diceva Mazza cioè obiettivamente in Abruzzo hanno preso più voti il centro-destra rispetto a 5 anni fa questo è poco ma sicuro l'assenzionismo di Battista è un problema che riguarda tutte le forze politiche ma mentre riguarda tutte le forze politiche per l'opposizione che dovrebbe vincere è un dramma il fatto che non convinca chi non va a votare è un dramma questo è indubitabile perché lo Stato dei fatti allora ci sono due problemi uno di dati strutturali di economia e uno di immaginario di parole come diceva Leo Gullotta allora l'economia rivendicata da Giorgia Meloni guardate record di occupazione record di numero di occupati record di contratti stabili tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni come l'abbiamo fatto? abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava non è vero Betta Piccolotti è vero ma non è assolutamente vero Guendalino Anzolini è un economista prego coloro che non lavoravano sono ancora in una condizione allucinante in particolare in tutto il meridione perché non hanno davvero di che vivere ci sono tanti che sono entrati nel circuito dello sfruttamento e del lavoro povero perché quando si lavora a 500 600 700 euro al mese sostanzialmente si è sfruttati e il governo Meloni se si lavorasse senza essere pagati piena occupazione esatto questa è una buona osservazione il governo Meloni ha messo in campo tutte quelle misure che servono sostanzialmente a tenere basso il costo del lavoro per le imprese ma se è basso il costo del lavoro significa che sono bassi gli stipendi e infatti in Italia da 30 anni non crescono non sono cresciuti come l'inflazione il salario minimo è stato rifiutato dalla maggioranza e c'è un problema gigantesco che noi poniamo ogni giorno però Zurlo ti chiedo di darci un flash perché poi chiediamo anche il parere alla professore Sanzolini Zurlo beh i salari sono bassi da 30 anni ma il numero degli occupati è cresciuto e dobbiamo cercare il modo di coniugare la domanda e l'offerta perché sappiamo che moltissime professioni moltissimi lavori oggi in Italia non si trova nessuno che li voglia fare ma non sono tutti sfruttati perché se aumentano i posti a tempo indeterminato se aumentano i posti fissi non è sfruttamento poi c'è il lavoro povero bisogna lavorare ma qualcosa questo governo ha fatto ricordo altri dati e chiudo lo chiediamo a Guendalina Anzolina ci ospediamo aspettate e sono importanti ma di che cosa state parlando se no abbassiamo il studio perché abbiamo detto materiale e immaginario siamo sul materiale ma dobbiamo andare sull'immaginario Guendalina Anzolina economista come stanno le cose a dare altri due dati anziché dire cresciuto aumentato è vero la disoccupazione è diminuita dello 0,5 ma un dato di cui in Italia non si parla mai sono gli inattivi gli inattivi sono aumentati nello stesso periodo dello 0,4% e sono quelle persone che non hanno più speranza di riuscire a trovare un lavoro decente tra l'altro il modo in cui nel nostro paese sono conteggiati occupati e disoccupati andrebbe rivisto vi faccio un esempio occupato è una persona che ha lavorato un'ora un'ora soltanto nella settimana di riferimento e disoccupato è chi ha cercato attivamente lavoro inoltre la povertà lavorativa per essere disoccupato deve averci provato ma c'è tanta gente che neanche ci provato però sta aumentando il numero delle persone che non hanno neanche più speranza e il 12% dei lavoratori nel nostro paese è povero i salari in Italia sono diminuiti dal 2019 al 2023 del 5,3% la media europea dell'1% e mi permetto anche di dire perché è stato affrontato la settimana scorsa in questo studio un altro tema che viene fuori spesso è la questione della sanità qui si ne parla spesso questo governo si vanta di aver aumentato di 3 miliardi però andando a scavare dietro questi numeri questi 3 miliardi sono 2,3 di rinnovi contrattuali e 400 milioni dati per scorrere le liste d'attesa e togliendo il tetto alla sanità privata quindi in realtà sono soldi che andranno alla sanità privata vogliamo affrontare il tema della sanità e non dare la colpa alla Meloni che governa da un anno dovremmo fare un discorso molto ampio che è la spesa sanitaria negli ultimi anni parliamo di 30 anni a questa parte i tagli che ci sono stati che non li ha fatti il governo Meloni lei sa bene che le liste d'attesa di cui si parlava prima sono per quanto riguarda sia le regioni di centrodestra sia per le regioni centrosinistra vedi la Toscana dove per fare una visita specialista ci vogliono 10 mesi quindi non cambia molto quindi c'è un problema delle risorse per la sanità che è un problema che riguarda l'aumento dell'età delle persone quindi le malattie è un problema strutturale non è un problema da campagna elettorale siamo a metà percorso vi presento la professoressa Gloria Ghetti che insegna storia e filosofia al liceo cofondratrice di priorità alla scuola allora c'è un problema di linguaggio anche è un problema di linguaggio aspetti aspetti professoressa perché voglio commentare con lei e Gullotta quello che vediamo 8 marzo la news 24 lo festeggia con una poesia questa arriva Dio mi fece donna e mi ha scavato dentro mi ha reso fabbrica di esseri umani ha intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero dei miei ormoni ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me perché irrigasse tutto il mio corpo nacquero così le idee i sogni l'istinto tutto quel che ha creato suavemente a colpi di mantice e di trapano d'amore per cui mi alzo orgogliosa tutte le mattine e benedico il mio sesso c'è un problema di linguaggio professoressa Goet sì il primo il primo problema mi è capitato proprio quest'anno una ragazzina oggi è la festa della donna no oggi non è la festa della donna oggi è la giornata della donna in cui si celebra la donna e le sue lotte quindi non c'è nulla da festeggiare con i dati che abbiamo sulle violenze della notte sulle donne ma c'è da lottare però una poesia così delicata che problema può creare no no ma perché già già parlare di festa però questo non è un problema imputabile alla melonia no non è un problema è imputabile a questo tempo è un tempo che è violento oltre che pesante violento nel linguaggio e il linguaggio svela sempre un pensiero e violento nelle condotte perché si è parlato della disaffezione al voto e dell'astensionismo chiediamoci qual è il rapporto dei giovani con la politica chiediamoci qual è il rapporto dei giovani con questo governo questo governo ha preso fin dall'inizio fin dai decreti rave anti-rave i giovani come bersaglio e giù avanti con gli ecco vangali e poi tisa e poi tisa tisa e poi non resiste parla lei magliaro e riva no vi scambiate troppo abbassiamo si diciamo scambiandoci dell'idea abbassiamo i toni finisce la professoressa e poi se riesce a aspettare magliaro risponde lei si sta rubando il tempo aspetta finisce la professoressa sto parlando del rapporto dei giovani con la politica sto parlando di ragazzi che avevano fatto una cosa molto semplice si erano puniti avevano pensato non vorrei che poi dopo viene recuperato e viene fraintesa lei diceva le piacciono i manganelli sono fissati con questa storia dei manganelli di tirar fuori che è colpa della Meloni quando la polizia le ha sempre usati i manganelli in qualsiasi tipo di manifestazione quando si va contro le disposizioni delle forze dell'ordine addirittura i carabinieri usavano il fucile all'incontrare il calcio del fucile ma la facevano quando c'erano i suoi amici al governo ha capito picchiavano tutti quando c'erano i suoi amici al governo torniamo a noi abbassiamo lo studio una volta chiarito il cui pro quo Leo Gullotta quella poesia che significa? la forza continua di andare a cercare un linguaggio diverso a tutti i costi la condizione della donna dove i maschietti facciamo pochissimo quasi niente lo diciamo da tanto tempo partecipiamo anche noi a questa lotta ma il maschietto non si arrende e lì fermo non vuole saperne ma una presidente donna non è una garanzia di cambiamento certo sono d'accordo io bisogna vedere che è cambiamento se dobbiamo sapere con Marsilio che l'Abruzzo è circondato da tre mari mi sembra un problemino non l'ha detta stavo no l'ha detta se l'abbiamo magari non intendeva non intendeva quello si chiamano i Poloni per esempio pensi come stiamo quindi malcomune prego Eliana no sono rimasta senza parole dalla poesia perché penso che tutta quella retorica anche negli anni 50 sarebbe stata già troppo anch'io ho passato tutto l'8 marzo a dire che l'8 marzo non è una festa semplicemente perché non c'è nulla da festeggiare le mimose di lasciarle sugli alberi ma anche la retorica i sensi comuni da come mi ha fatto Dio cioè l'8 marzo è una giornata di lotta peraltro di sciopero in tutto il mondo del movimento trasnazionale di non una di meno è la giornata in cui abbiamo rivendicato e denunciato la fatica non l'orgoglio la fortuna di essere donna in una società sì doveva essere brevissima scusate sì Zurno è stata la giornata una ragazza ebrea allontanata da un corteo femminista pro palestina pro hamas contro Israele ma questa non era pro hamas non era pro hamas questo è un drama prego una cosa poteva fare il governo Meloni visto che ha raddoppiato l'iva sugli assorbenti per le donne riportata al 5% piccola cosa per noi piccola cosa riprendiamo hai fatto il record di buccia Padellaro Tabacci Floridi a Galdieri tra qualche istante diamo il benvenuto Antonio Padellaro bentornato direttore tra i fondatori del fatto quotidiano in libreria confessioni di un ex elettore per Paperfest quanto più diciamo attuale visto l'andamento della nostra politica e cambia il vento cambia il vento no non cambiava il vento tanto dire cambia il vento cambia il vento ha significato innanzitutto compattare il fronte avversario perché se c'era qualcuno a destra che si era assopito magari diceva a quel punto si è risvegliato ed è stata tutta una campagna che non ha fatto altro che dire all'elettorato di destra attenzione perché stanno arrivando anche mancano pochi ci sono pochi voti di distacco non era così io ho trovato dal punto di vista proprio tecnicamente tecnico della campagna elettorale degli errori madornali anche e chiudo perché la presidente della regione Sardegna Tod è un personaggio certamente di livello straordinario eccetera ma portarla in Abruzzo a fare campagna elettorale per non lo so se è stata accolta bene poi il distacco è stato veramente inaspettato partiamo dagli errori tecnici e poi andiamo alle ragioni profonde e te ne propongo un altro l'immagine del rettore scelto una bravissima persona d'amico valutato positivamente da tutti però l'immagine la figura il rettore un po' anni 90 anni 2000 siamo noi che studiamo siamo noi che studiamo e vi diciamo come vanno le cose quella può essere una figura che ci ha riportato indietro nel tempo del centro-sinistra beh il suo merito è stato quello di mettere insieme tanti tutti diciamo gli elementi dello schieramento di opposizione certamente ecco se continuiamo a fare il paragone con la Tod che aveva una grinta più dilompente perché una manager prestata alla politica non solo ma anche una forza dialettica lui non mi sembra che abbia espresso questa energia che siccome poi queste elezioni come quelle in Sardegna si sono giocate sulla forza del candidato sulla personalità del candidato evidentemente Marsilio è stato più bravo ecco prendere atto cioè anche il campo largo il campo stretto il centro-destra funzionano solo se trovano una leadership di volta in volta che attiri i voti cioè quasi una conseguenza al mettersi insieme dietro a una persona che non come ha sempre ragionato anche il centro-sinistra prima troviamo l'intesa e poi troveremo il nome bisogna invertire il processo ma assolutamente poi il candidato deve essere coerente con tutti gli attori della coalizione allora per carità Calenda e Renzi hanno dato il loro apporto ma qui questo campo largo si è ristretto nel momento in cui quell'elettorato per esempio di 5 Stelle o anche forse del PD è andato a votare e ha detto ma dobbiamo votare pure con Calenda e con Renzi cioè dopo delle polemiche che sono state veramente furiose e dopo che in campagna elettorale i Calenda Renzi Conte hanno continuato a dire ma con loro poi tutto sommato non è che andiamo molto d'accordo giusto perché c'è lui ma se noi con lui non andremo insomma hanno anche allora il campo largo che si è ristretto funziona soltanto quando c'è un'omogeneità nei programmi quando c'è un'omogeneità nelle linee per esempio il PD e 5 Stelle hanno un tema per tutti sul salario minimo raggiunto un accordo forte c'era anche Calenda benissimo sulla politica estera non c'è lo stesso accordo sull'Ucraina ci sono cose differenti si votava per l'Abruzzo quindi non si parlava delle grandi questioni internazionali se trovi un nome che non fa pensare a tutti questi temi ma se passi attraverso questi temi non regge assolutamente allora vediamo l'altro l'altro lato della politica Giorgia Meloni funziona o no quando divide il paese quando è così insultante verso gli avversari quando è così sprezzante funziona o no perché in Sardegna sembrava di no qua sembra di sì in Sardegna non poteva funzionare perché il candidato era sbagliato sia il primo candidato Solinas che aveva dei problemi anche con la giustizia che poi risolverà ma insomma è chiaro l'immagine non era perfetta sia con Truzzo che comunque lui stesso ha ammesso di essere stato inadeguato però quando Giorgia Meloni dice metto l'elmetto quella è una frase chiave perché mettere l'elmetto perché da qui fino all'europea me ne faranno vedere tutti i colori significa anche in questo caso no ridare vigore al proprio elettorato attenzione che stanno arrivando quelli di prima stanno arrivando non ha detto i comunisti quello lo diceva Berlusconi l'ha detto San Giuliano sì attenzione e quindi seguitemi e ha funzionato sulla base dei risultati poi attenzione se un Presidente del Consiglio che il giorno dopo va al G7 o al G20 che si incontra con i combine eccetera poi continua a fare la campagna elettorale come quando era al 4% è un altro problema che magari pagherà in seguito e allora aiutaci a capire cosa succede nei due mondi da una parte PD e 5 Stelle che comunque sono avversari in vista delle europee dall'altra Meloni e Salvini con il secondo che sembra suonato suonato di brutto in questo momento allora PD e 5 Stelle spero che l'abbiano fatto devono decidere in vista delle europee dove si vota con il proporzionale di mettere insieme una serie di temi sui quali ecco non ci attacchiamo fare una specie di tregua su alcune tematiche pianificarla ecco mi raccomando mentre sotto certi aspetti è più semplice il compito di Giorgia Meloni intanto perché ha vinto l'elezione perché Marsile è un suo candidato poi vediamo Salvini ma Salvini adesso ha delle gatte da pelare niente male nella Lega quindi non credo che in questo momento non so spero non vorrei sbagliarmi sia intenzionato a creare problemi ulteriori a Mameloni insomma ho l'impressione che il voto dell'Abruzzo che è stato un voto deprimente anche perché è stato raddoppiato è stato Tagliani ma questa è la notizia cioè il grigio Tagliani ha raddoppiato il brillante capitano e quella è la domanda che ti volevo fare a questo punto te la faccio subito allora Forza Italia ha un ottimo risultato già l'aveva avuto c'è aria comunque di un consenso questo è merito di Forza Italia o demerito di Renzi e Calenda? Beh tutte e due le cose perché Renzi e Calenda vogliono occupare il centro moderato alzando la voce strillando e attaccando Tagliani essendo radicali sì dovrebbero ecco se fossero degli estremisti potrebbero farlo ma il moderato visto che stiamo parlando non vuole sentire gente che strilla e quindi Tagliani è perfetto anche perché non parla il tema divisivo ora inizia un talk con cui affronteremo con esperti anche questo tema al momento è quello del dossieraggio che coinvolge anche il ruolo della stampa allora abbiamo il cartello ci fa vedere tutte le persone che sono state spiate alla fine da un funzionario da un sottoufficiale della DIA Crosetto Lollobrigi da Urso del Mastro Salvini Valditara gente importante a destra tanti a destra bisogna dire anche dall'altra parte ci sono tutta la famiglia del presidente Conte Matteo Renzi insomma distribuito più a destra poi dice Meloni attenti nel periodo in cui formavo il governo in cui andavo a vincere le elezioni che idea ti sei fatto di questa vicenda? se dobbiamo restare alle dichiarazioni del procuratore di Perugia persona certamente di spessore di forte credibilità è un verminaio vedremo perché è un verminaio perché fino adesso noi abbiamo avuto delle definizioni per esempio Tajani ha detto dov'è la cupola c'è una cupola la Meloni i mandanti i fuori mandanti i verminaidi ecco abbiamo tre giornalisti del domani che hanno fatto il loro lavoro poi se non l'hanno fatto in maniera corretta se la vedranno loro si perché l'hanno accusa che siano i mandanti di un reato e quindi partecipano di questo reato vedremo loro lo spiegano in maniera diversa e poi abbiamo una questione che sta sconvolgendo l'Italia che è la rissa tra Gravina e Lotito questa è una di quelle cioè allora perché vennero spiegati tra l'altro anche Ronaldo anche Ronaldo è stato spiato dei VIP di altro taratura per carità speriamo che ecco non ci sia il verminaio va bene però dopo tante dichiarazioni roboanti bisognerebbe che saperne qualcosa di più per ora abbiamo soltanto le definizioni detto questo è chiaro che c'è stata un'attività illegale tra l'altro colui che andava a smanettare ha detto che dirà tutto alla magistratura e quindi vedremo vedremo Antonio Patellaro grazie per essere stato con noi mentre ci chiede la linea Laura Gobetti sì è stato aggredito Leonid Volkov che era il braccio destro di Navani il dissidente russo morto in carcere a metà febbraio Volkov era considerato o è considerato un po' alla mente lo stratega della dissidenza russa poche ore prima aveva detto di temere per la sua incolumità è stato preso a martellate c'è in corso un'indagine non si sa ancora chi siano gli autori di questa aggressione a te grazie Laura benvenuto Antonio Di Bella storico corrispondente Rai Paolo Galdieri avvocato docente di rito penale dell'informatica Bruno Tabacci presidente del centro democratico Alessandro Cattaneo Forza Italia Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle Andrea Mancia direttore dell'opinione Antonella Boralevi il 20 marzo al museo Bagatti Valsecchi con parole Lude Claudia Conte dall'8 marzo Baraiso Radio Cambiare se si può Vanessa Rodi storica in libreria con un libro d'oro e d'argento allora presidente Floridia alla fine abbiamo discusso tanto del risultato in Abruzzo ma forse bisogna dire una cosa che questa Giorgia Meloni funziona guardi noi abbiamo portato al governo l'Italia vera che non è quella descritta dai giornaloni o nei salotti tv per questo noi siamo un nemico da battere con qualsiasi mezzo perché siamo uno specchio siamo uno specchio per la loro meschinità per combatterci si sono ridotti a tifare contro l'Italia e invece l'Italia con noi vince Presidente teme che il caso Pozzolo possa abbattersi sul governo non parla 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 nessuno ha fatto nessun servizio non parla allora le rinnovo l'invito presidente grazie guardi io le rinnovo la risposta no allora vince in Abruzzo perché funzionano questi metodi o perché l'alternativa è troppo debole la Meloni presto si sgonfierà perché non ha mantenuto una delle promesse che ha fatto in campagna elettorale ricordiamoci che fino a due settimane fa eravamo qua a raccontare il successo del Movimento 5 Stelle e della vittoria della Todde oggi parliamo di Abruzzo e del sicuramente risultato modesto che anche il Movimento 5 Stelle ha raccolto in Abruzzo e di questo faremo chiaramente tesoro e faremo una valutazione però alla fine di questo momento di campagna elettorale ricordiamoci che noi usciamo con una regione in più che governiamo e loro con una in meno quindi i risultati cominciano a vedersi Castagne 1-1 palla al centro mi sarà Fiorido dipende sempre dalla fotografia con quanto grand'angolo la vuoi fare se io guardo le ultime 7 competizioni di elezioni regionali 6 le ha vinte il centrodestra voi siete contenti di aver vinto la Sardegna complimenti alla Todde buon lavoro noi siamo dei signori però è stato il centrosinistra a voler politicizzare molto le elezioni in Abruzzo il campo largo funzionerà e spazzerà via il centrodestra funziona c'è un vento contrario che soffia al governo Meloni bene 7 punti percentuali di distacco abbiamo vinto in maniera netta e clamorosa perché abbiamo lavorato bene in Abruzzo perché siamo credibili al governo probabilmente i cittadini abruzzesi hanno voluto premiare Marsilio che finalmente ha compreso che l'Abruzzo non è bagnato da tre mari detto questo noi certamente auguriamo un buon lavoro e faremo un buon lavoro e faremo certamente un'opposizione attenta e nell'interesse della regione Tabacci che è successo in Abruzzo ricordo i risultati delle elezioni politiche del 2022 la presidente Meloni aveva già vinto nel collegio dell'Aquila col 51,5% e il candidato alternativo era dietro una trentina di punti se vediamo adesso com'è la situazione si vede che il campo largo il campo giusto come lo vogliamo chiamare è comunque l'unica forma di competizione possibile perché in uno schema almeno ce la siamo giocata certamente si porta e si vince ma in uno schema tipolare se l'avessimo applicato nel settembre del 2022 non avrebbe preso la maggioranza al Senato con quei numeri immaginiamoci quelli di oggi che sono leggermente migliori intanto partirei dall'analisi del voto sinceramente perché è vero che il centrodestra era andato bene anche nel 2022 in Abruzzo ma comunque il dato della coalizione mi sembra in crescita nettamente rispetto alle politiche perché il 2019 diciamo sono 5 aree geologiche fa politicamente e hanno perso ha perso il Movimento 5 Stelle fondamentalmente la Lega non è andata bene rispetto al 2019 ma rispetto al 2022 ha tenuto tutto sommato Forza Italia è andata molto bene Fratelli d'Italia è andata bene il dato può sembrare apparentemente inferiore a quello delle politiche ma c'è la lista personale di Marsilio che è un uomo di partito parliamoci chiaramente un uomo della Meloni non è calato dal mondo delle Cile è Fratelli d'Italia e quindi io credo che la coalizione di governo sia in piena salute parlo soltanto sotto il profilo elettorale poi la politica è qualcosa che ci colpisce tutti i giorni mentre il campo largo secondo me è andato peggio di quanto non solo loro speravano ma di quanto anche gli analisti neutrali potessero potessero prevedere sinceramente così così tabaccio o lei dice comunque sia andato altri chiavi non c'erano comunque dice di come speravano il punto è che un'alternativa ad una coalizione diversa non c'è non è che si va diciamo in ordine sparso e si pensa di competere così la competizione c'è stata l'Italia non è tutto l'Abruzzo quindi evidentemente quando si toccherà di votare se si vota con questo schema il bipolarismo dice che vediamo alla fine chi ha il respiro più lungo insomma tra giornalisti intellettuali e anche un penalista chiediamo se il bipolarismo è inevitabile se è inevitabile per la posizione che i partiti tengono oppure per come parlano i leader guardi sul palco d'Abruzzo Giorgia Meloni Antonio Di Bella guardi Giorgia Meloni succederà di tutto c'ho l'elmetto io ho già messo l'elmetto fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci possono fare tutto quello che vogliono ma noi non molleremo mai questa capacità di dividere il paese è solo di Giorgia Meloni è solo della destra in tutto il mondo o è di tutti i partiti e dei leader che si candidano io credo che una delle elezioni di questo voto che secondo me è interessante è la vittoria dei moderati come Forza Italia cioè la sconfitta di chi grida molto e io credo che questo dovrebbe essere interessante anche per la Meloni mio nonno che era un questurino diceva che quando bisogna raffreddare la piazza bisogna togliersi l'elmetto e parlare con i manifestanti ecco potessi dare un consiglio e direi allora Giorgia Meloni togliersi l'elmetto però Vanessa Roghi lei è una storica c'è un successo dei moderati che permette alla poco moderata di vincere che tratti a Giorgia Meloni dal suo punto di vista non avevo sentito l'intervento in cui esulta e non avevo appunto sentito l'uso del verbo mollare che ovviamente per una storica insomma è così ma questo è banale voglia chi molla il motto dei rivoltosi di Reggio Calabria veramente non l'avevo sentita e questa cosa che diceva Di Bella è comunque vera cioè la metafora dell'elmetto io credo in questo momento ha vinto per carità però usare la metafora dell'elmetto militarizzare la battaglia politica cioè si può vincere anche senza come dire dichiararsi in guerra e penso che questo sia un obbligo insomma di chi appunto porta avanti le sorti del paese lei dice appunto l'opposizione in qualche modo è contro gli italiani ma a me questo veramente lo dico da storica insomma parlo in mezzo ad esperti però credo che questo modo di militarizzare il discorso di rendere la battaglia politica un fronte contrapposto non faccia bene sulla lunga durata a nessuno Andrea Mancia poi arriviamo a Claudia Conte Antonella Boralevi Andrea Mancia due cose molto brevi uno non credo che sia stata la Meloni a militarizzare il conflitto io ho assistito a una campagna elettorale in cui ogni 30 secondi c'era un'accusa di fascismo di estremismo l'estrema destra l'ultra destra quindi diciamo la guerra c'è prendo atto che c'è non so chi l'ha dichiarata a chi seconda cosa io invece penso che proprio perché sono d'accordo con Di Bella cioè paga il moderatismo in questo periodo storico della politica italiana e Forza Italia ne è la dimostrazione più plastica io credo che per la Meloni abbia pagato il suo moderatismo io per esempio non mi aspettavo le sue posizioni in politica estera non mi aspettavo l'appoggio così chiaro e limpido alla Nato non mi aspettavo non mi aspettavo questa Meloni ne sono piacevolmente sorpreso e credo che proprio il fatto che non sia estrema come la dipingevamo si raccontava le stesse in campagna elettorale come si raccontava le stesse quindi effettivamente conferma che è diversa allora radicale nei toni ma non nella politica dice Andrea Mancia ora Cattaneo Moralevi Claudia Conte dice Andrea Mancia accuse di fascismo dall'altra parte accuse di comunismo guardiamo San Giuliano il ministro questa regione non può tornare indietro non può tornare nella palude del PD non può tornare nelle mani dei comunisti perché io li chiamo nome e cognome sono ancora comunisti radicati in una ideologia nefasta e antiliberale sono stati finanziati pensate film con 14 20 spettatori vado ad ingrassare il solito regista che poi organizza la terrazzata romana della gauche caviar con la R moscia e che si raccontano fra di loro di essere i migliori i più colti di essere delle super persone che ci guardano dall'alto in basso e così è una bella gara per decidere chi ha dichiarato la guerra la terrazza diciamo è più luogo comune fastidioso mi sembra la terrazza sta dentro i fili precisa della realtà io penso guarda da osservatrice che insomma si occupa di comunicazione penso che non è che nella politica italiana adesso piace la moderazione ma i moderati piacciono nel momento in cui tutto il mondo tracolla cioè è ovvio che nel momento in cui te apri le tue notizie e trovi le tragedie i tracolli e le crisi dell'occidente intero è ovvio che cerchi qualcuno di moderato a me ha colpito il successo del partito che ci ha moderato nel titolo cioè pensate effettivamente è una cosa strana allora io credo questo sono successi diciamo un po' di nicchia ora un grande successo per Forza Italia ma là la leader non è un esponente di noi moderati o di Forza Italia è la destra di Fratelli Italia secondo me il tema della Meloni è questo la Meloni forse ora vince dicendo mi metto l'elmetto però se guardasse secondo me se guardassimo al futuro e chiudo penso che l'elmetto non serva né alla destra né alla sinistra una battuta solo su noi siamo molto soddisfatti di questo nostro successo perché di tale si tratta e tutti lo stanno riconoscendo ma attenzione non c'è solo lo spazio moderato che ci lascia il centro-destra ma c'è anche quello che lascia il centro-sinistra perché la proposta di Schlein e di Conte allarga lo spazio e come diciamo spesso noi lo dice il segretario tra la Meloni Salvini e la Schlein e Conte beh in mezzo c'è un grande spazio e noi lo stiamo interpretando più di ogni altro voi prendete voti dal vostro campo non dal nostro il nostro è stata cristiano ma ce lo vogliamo dire nella storia italiana e la Bruzza non è proprio la storia di Marzino non è proprio la storia di un democristiano però è vero che ci siamo coalizzati noi per andare contro qualcuno che ci attaccava da sinistra noi siamo sempre quelli il centro-destra tradizionale Claudio Abruzzo voi vi siete coalizzati un campo di battaglia vero quello del dossieraggio io penso che parlare di fascismo e comunismo siano armi di distrazione di massa qui bisogna parlare di agende di condivisione di progetti ed è quello che è mancato al campo morto al campo santo perché se ci pensiamo dal 2019 al 2024 ci sono state otto elezioni regionali in cui si sono presentati PD e 5 Stelle uniti e hanno sempre perso quindi questo qui è l'ennesima dimostrazione il campo Argo non convince gli italiani è venuto a bacio ma guarda io nella lunga esperienza ho visto che si vince che si perde non è questo il problema il problema è di come si vince e di come si perde ad esempio in questa coalizione c'è l'onorevole Salvini che non è che esce malconcio di più è diventato un problema per la Lega quindi aspetta lasci parlare dottoressa stia pazienza ditelo a Salvini questo è un problema che riguarda non credo che lui dirà è viva ha vinto il centrodestra è un problema che riguarda la coalizione e il cosiddetto di centrodestra con Salvini che ormai è rotta di collisione non è un tracollo lasciatelo parlare poi riplicherete in PD e 5 Stelle ci sono grandissime differenze non solo in politica estera ma infatti noi non abbiamo via ok abbassiamo lo studio non ci capiamo deve parlare uno per volta toccava a Tabacci prego non è un gran problema nel senso che la coalizione che in questo momento sta governando ha dei problemi di prospettiva molto rilevanti e la regia dei conti con Salvini c'è nei fatti sarà sul terzo mandato saranno su altre cose che sono davanti a noi saranno su elezioni europee tra l'altro l'onorevole Meloni dovrà continuare questo percorso verso la maggioranza che governa l'Europa non potrà pensare che va in una direzione opposta che sarebbe quella dove la percorso spinge Salvini quindi queste sono le cose vere cerchiamo di fare il discorso speculare che tentavate di impostare voi se da una parte c'è Salvini che si lamenta dall'altra c'è Conte dice lei perché a guardare i dati dell'Abruzzo ci sono due ali che perdono Salvini forse non in Abruzzo ma complessivamente mettendo la Sardegna l'Abruzzo i sondaggi c'è un clima le contestazioni interne Salvini si trova in difficoltà così come potrebbe trovarsi in difficoltà Conte e così Cattaneo In realtà se analizziamo il dato non facciamo il paragone con le regionali di 5 anni fa con le politiche di un anno e mezzo fa la Lega passa dall'8 e qualcosa al 7 e qualcosa non si può parlare di tracollo Salvini è contestato al suo interno viene un risultato terribile in Sardegna secondo tema il centrodestra funziona e ormai è sperimentato c'è anche una mobilità interna agli elettori ma nel perimetro del centrodestra l'elettore rimane perché sente più forte l'affezione magari al centrodestra come natura area politica che non magari è un singolo partito in questo momento noi siamo contenti che in mezzo a tante guerre in mezzo a un momento difficile essere moderati ed affidabili rappresenti un porto sicuro ma non gioiamo per se qualcuno non va bene come prima Floridia e poi di pelle e poi apriamo il capito del dossier questo che dice Cattaneo è vero nel centrodestra si vince in quanto centrodestra mentre in centrosinistra questa identità di gruppo è lontana da venire o no? Sì bisogna fare prima un'analisi il Movimento 5 Stelle in Abruzzo ha avuto un successo modesto sì è vero però ricordiamo anche il dato nazionale il Movimento 5 Stelle resta ed è non soltanto il terzo partito italiano quindi la terza forza ma abbiamo anche recuperato un 2% e Conte è ad oggi il leader più apprezzato quindi certo che facciamo l'analisi del voto circoscritto ma dobbiamo guardare l'insieme del tutto nel campo che possiamo chiamare campo giusto campo largo non certo campo santo perché delle prime tre forze politiche due sono proprio il PD e il Movimento 5 Stelle e dietro ci sono Forza Italia e la Lega detto questo il nostro campo giusto è giusto nella misura in cui condividendo progetti concreti non ci mettiamo insieme per forza quando c'è un progetto condiviso certo che andiamo insieme Antonio Di Bella aspetti Claudia Conte Antonio Di Bella c'è una differenza che forse nei giorni di oggi non si guarda più alla coalizione si guarda al leader chi è che ci guida uniamoci dietro di lui o dietro oppure no è quello che ha dimostrato la Sardegna la Todde ha vinto perché era brava lei e in più perché c'era un voto disgiunto che non c'era in Abruzzo sicuramente nella politica di oggi rispetto al passato America insegna i partiti sono meno forti sono più forti i leader ma è anche la gente più che seguire l'indicazione dei partiti che non ci sono più guarda al leader e vota allora Paolo Galdieri guardi come ha diviso di nuovo l'opinione pubblica Giorgia Meloni parlando dei famosi dossier l'inchiesta a Perugia secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali segnatamente al giornale di De Benedetti vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono metodi da regime allora Paolo Galdieri esiste o no il reato di dossieraggio? no il reato di dossieraggio non esiste ma non si bisogna anche chiarire che si intende per dossier solitamente per dossier si intende una serie di informazioni una storiella creata ad hoc per denigrare per ricattare qualcuno il reato di dossieraggio non esiste esistono reati collaterali per esempio io vado a prendere le notizie che mi servono per fare il dossier quindi faccio un accesso abusivo ad esempio faccio uno spionaggio militare o politico e prendo quelle notizie confeziono un dossier per ricattare qualcuno quindi abbiamo l'estruzione quindi il dossier è un mezzo per compiere un reato il dossier sì è un termine diciamo giornalistico non giuridico dunque però è una vicenda che comunque non sta scuotendo solo il mondo della politica perché sta provocando tensioni nella magistratura ieri il procuratore generale di Perugia ha emesso un comunicato in cui promette di segnalare anomalie nell'indagine condotta da Cantone cosa sta succedendo? per me che sono un penalista da 30 anni niente di nuovo nel senso che quando ci stanno diciamo dei fatti abbastanza eclatanti c'è una fuga di notizie quindi c'è anche una fuga di notizie rispetto a questa indagine è una cosa diciamo non bella ma non nuova tra l'altro è preato quando c'è una rivelazione di segreti d'ufficio da qualche parte ma già con Tangentopoli si sapevano prima le cose prima ancora che le sapessero gli imputati se la sono dimenticata la sono dimenticata abbiamo una vittima qua di quell'epoca mi dica un'ultima cosa quanto questa vicenda coinvolge la libertà di stampa? ma non lo so perché qui alcuni dicono viene attaccata la libertà di stampa io la vedo un po' diversamente cioè la libertà di stampa è se io una notizia la pubblico se io però dovessi commissionare un'attività illecita per pubblicare una notizia secondo me sarebbe reato ora io non vado sull'indagine perché non so quali sono le prove però il fine non giustifica i mezzi cioè nel senso che io non è che posso dire a uno di andare a scassinare la casa di un altro per prendere una notizia e portarmela se è uno che sta preparando un attentato se io vado nella banca dati per scoprire se il ministro su cui indago compio un reato però sto cercando o sensore o notizie che quel ministro sta preparando un golpe io trovo la notizia evito il golpe posso finire in carcere io allora i reati possono avere delle discriminanti per esempio il giornalista ha l'esercizio di un diritto ma non è che questo gli giustifica un accesso non autorizzato ma se quell'accesso evita qualcosa di grave ma quello potrà essere valutato dal giurice però quando io quando io vado a fare un accesso io non so quello che trovo intanto sto commettendo reati allora Bruno Tabacci a cosa siamo davanti insomma io distinguerei la questione delle inchieste giornalistiche ho visto che recentemente ci sono state delle polemiche nei confronti della trasmissione della RAI proprio sulle inchieste giornalistiche le inchieste giornalistiche è necessario che ci siano dentro un sistema democratico aperto e responsabile se invece c'è una pesca a strascico fatta da un funzionario infedele che evidentemente è in connessione perché non è che quello lavora così perché vuol divertirsi vuol sapere che cosa fa lei no non è così è scientifico e quando ci sono 33 mila accessi quelli di cui si è parlato vuol dire che questo lo si fa tutti i giorni e ha i canali di distribuzione i collegamenti questo non è inchiesta giornalistica Vanessa Roghi da storica che clima si respira in Italia a me francamente sembra capisco diciamo che non è esattamente il contesto giusto in cui dirlo ma a me sembra come diceva prima che ci siano delle enormi armi di distrazione di massa cioè in questo momento abbiamo delle questioni io vorrei qui stasera parlare non lo so appunto delle conseguenze sui comuni del decreto Caivano cioè di quanto le procure vengono come dire affaticate dal doversi mettere a aprire procedimenti contro le famiglie invece di abbattere la questione della dispersione scolastica no 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 allora io abbassiamo il microfono farvi la mancia scusate se rilancio ma io credo che sia proprio un problema diciamo generale dell'informazione per cui cioè ma appunto che aria si respira si respira all'aria diciamo nel fatto che al di là delle indagini sulle inchieste che si fanno si dovrebbero fare altre inchieste non so cioè scusatemi ma io penso di tutte queste puoi farle è libera ma io non sono giornalista ma stavo per dire la stessa cosa ma io non sono una giornalista non sono una giornalista non sono una giornalista no no è troppo le inchieste sono anche storiche la ricerca delle conti è anche storica io credo che sinceramente questa vicenda che sta intorno all'inchiesta di Perugia sia gravissima anche perché è una cartina di tornasole per qualcosa che in Italia accade almeno dai tempi di Tangentopoli io prima prima anche a dir la verità ma prima ero piccino e non me ne curavo da quando però ho la facoltà della ragione per così dire è sempre stato così in Italia cioè si usa la magistratura pezzi dello Stato per colpire avversari politici e nessuno dice niente anzi qua non è questione di libertà di stampa qui qui la stampa fra virgolette cioè il sistema dell'informazione è il vero molte volte è il vero mandante o quantomeno il fiancheggiatore di questo tipo di operazioni che come diceva l'avvocato prima sono illegali prima di Bella per risposta del giornalista poi Floride Cattani prego prima di ogni altra cosa se tutta questa vicenda che secondo me è grave però si conclude una caccia al giornalista io non ci sto diventa molto comodo anche se il diavolo gli dà una notizia deve pubblicarla questo è il suo mestiere dopo ne pagherà le conseguenze ma non se lui la chiede al diavolo però è quello il problema no ma qui sono d'accordo nel senso che guardate attende anche dalla notizia che tira fuori inutile cioè se uno passa attraverso un comportamento scorretto per trovare una notizia che obiettivamente cambia i destini del mondo aspettate un attimo allora allora ascusate ma vi ricordate dopo domani aspettate Assange ha messo nei guai e le persone non ha trovato notizie c'è una rega ma c'è il diritto che abbiamo un preminente interesse generale come dire se io scopro che Floris mangia troppo non è non sono autorizzato a diffamarlo se sono il dietore di Floris ma se scopro che lui sta facendo le puntate per far venire Putin in Italia io violo la sua privacy ma svolgo un compito di preminente interesse generale io sono d'accordo poi vedremo chi si rivolgerà all'avvocato e vedremo chi ha ragione allora Cattaneo Borallelli e poi chiude Florini le democrazie occidentali i giornalisti svolgano una funzione assolutamente opportuna giusta aiutano a funzionare la democrazia certo a volte ci mettono la loro affaziosità però guardi va bene anche quella il vero tema questa volta è ancora una volta il tema invece della magistratura e dell'impellenza di una riforma della giustizia perché c'è stata Tangentopoli quella stagione non l'abbiamo mai riletta con una luce garantista c'è stata poi la fase anche di Palamara anche lo scandalo Palamara che è gigantesco cosa è che ha partorito nulla niente di niente e di nuovo questo dove si tocca un'istituzione sacra di questo paese che è la direzione investigativa antimafia cioè lì c'è qualcuno che ha accesso a Gliatadese e che lo fa in maniera illecita e non posso non tacere due evidenze uno che non ci sono esponenti di centro-sinistra che venivano spiati solo il centrodestra ma poi la buona ma c'era tutta la famiglia di Conte c'era tutta la famiglia di Conte ma del PD nessuno c'era anche il PD Fornaro gli diranno l'elenco allora aspettate un attimo prima del 2 non è vero c'era anche il PD eccoli guardate Matteo Renzi Zadoni Federico Fornaro consigliere regionale Paladino 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 allora può essere che qualitativamente beh ragazzi sbilanciamento a casa sapranno giudicare se c'è o no lo sbilanciamento prima delle elezioni politiche forse allora lei sta dicendo forse allora sta dicendo ce ne sono più di destra d'accordo prego e ultima cosa che gli ultimi procuratori antimafia non fa onore a questa istituzione il fatto che siano scesi poi in politica tutti e solo da un lato e non da un altro e questo è un altro discorso Floridia allora tre elementi il primo elemento è che se c'è un reato grave come sembra ci sia stato chiaramente va perseguito e quindi va punito chi ha commesso un reato punto secondo i giornalisti e in questo sono d'accordo devono assolutamente pubblicare tutte le notizie che possono essere utili all'opinione pubblica per strutturarsi un'idea o per cambiare i destini delle nostre nazioni punto terzo quello che noi non condividiamo è questo sciacallaggio su questo dossier perché che cosa accade fanno praticamente soffrono di vittimismo quelli della destra perché ricordiamo che noi per primi con Conte e tutta la sua famiglia siamo praticamente coinvolti alla stessa maniera ma non usiamo questo dossieraggio per fare le vittime punto secondo non si attacca assolutamente un'istituzione importante come quella della procura nazionale antinafia io penso che Watergate ha salvato sperando che Trump non vinca gli Stati Uniti cioè penso che effettivamente ci siano delle notizie che certe volte come dicevi giustamente tu bisogna trovare con dei mezzi non proprio ortodossi mi resta una domanda il dossieraggio sicuramente c'è ma io vi faccio una domanda provocatoria per ora c'è Striano 33.000 accessi ma se di Striano ce ne fossero 20 e che accessi potrebbero aver fatto cioè forse è proprio il sistema che bisogna pensare di mettere sotto controllo diverso Diamo il benvenuto a Roberto Roscani benvenuto giornalista in libreria con l'unità una storia tante storie per Fandango allora perché ne parliamo perché sono 100 anni dall'uscita il primo numero del quotidiano fondato da Antonio Gramsci ne parliamo con Roscani perché lei ha lavorato per quasi 40 anni all'unità cosa c'è da raccontare? Ho voluto raccontare il giornale che è stata a casa mia per tanti anni ma che è stata anche una delle voci dell'Italia democratica il giornale che dalla liberazione in poi accompagna la storia del nostro novecento non soltanto dal punto di vista della politica ma anche da quello della cultura del senso comune delle idee anche un giornale che registra i cambiamenti di questo paese che li segue in qualche modo cerca di anticiparli quando ci riesce nelle stagioni migliori poi non sempre è andata bene non sempre abbiamo fatto uno splendido giornale ma ci sono stati anche errori momenti di grande difficoltà però credo che sia una voce importante una voce che va in qualche modo capitata raccontata e capita per capire anche la nostra storia dunque partiamo dall'epilodo perché il giornale chiude nel 2000 io credo che chiuda perché finisce una storia che era c'è l'inizio nel 24 con la fondazione dei Gramsci che pensa a un giornale diciamo non di partito ma dell'opposizione antifascista c'è il giornale che riprende con Togliatti dal 44 in poi e che era un giornale fatto di un editore partito dei giornalisti giornalisti perché erano giornalisti da lettori che si identificavano nel giornale che lo portavano con orgoglio in tasca da persone che venivano era un simbolo identitario però nell'immaginario in qualche modo è scritto dal partito ma lei dice non è così no no in realtà non è così io credo che i giornalisti che erano lì dentro tutti quelli che ho conosciuto io parlo dagli anni 70 in poi ma quelli che poi ho conosciuto che ci lavoravano già da decenni eccetera erano dei giornalisti animati da una grande passione per la politica e quindi anche dei giornalisti comunisti ma dei giornalisti cioè persone che avevano curiosità del mondo e che sapevano raccontarlo quando avevano anche un'autonomia nel portarla non le fanno degli esempi parliamo ad esempio di Lama all'Università di Roma cosa è successo nel 77 durante un'occupazione dell'università da parte del movimento del 77 che era un movimento estremista di sinistra che però aveva come nemico il PC del compromesso storico Lama viene portato lì per riconquistare tra virgolette l'università il risultato è drammatico viene cacciato via ci sono scontri durissimi sassate c'ero l'ho vissuta quella cosa lì ora il primo impulso era chiudersi era dire il male è tutto di là il nostro tentativo non è stato ovviamente di dare un quadro come dire rovesciato ma invece di capire dove stavamo che cos'era perché erano così tanti quei ragazzi che stavano in quel giorno all'università perché erano così tanti ragazzi che stavano in quelle piazze cosa significava anche quel tipo di protesta e raccontandola questo è stato il nostro tentativo lei parla di porte girevoli tra giornale e partito che vuol dire? sì è stata per lungo tratto diciamo i dirigenti di partito diventavano direttori del giornale la direzione del giornale era un pezzo del del corso sonorum dei dirigenti di alcuni dirigenti comunisti questo era vero per i direttori non era vero da un certo momento in poi per la redazione la redazione in realtà era davvero una redazione professionale e poi cominciò di non diventare vero nemmeno per i direttori nel caso di FOA nel caso anche di Pavolini o di altri che avevano tutta una vita passata dentro al giornale. E anche lì però i direttori che venivano dalla politica spesso riuscivano a capire che dentro al giornale la politica aveva modi e mezzi diversi e quindi riuscivano a capire che bisognava rispettare la specificità del giornale. Può dare impulsi di modernizzazione come Veltroni, diciamo. Sì, l'arrivo di Veltroni in una fase peraltro piuttosto complicata, cioè dopo la fine del PC, la nascita del PDS in una fase di grande mutamento eccetera, Veltroni arriva e guarda il giornale come uno strumento editoriale più grande, i libri, le cassette, i film eccetera. Erano cose che servivano a vendere più copie, certamente. E rimettere l'unità nel mondo. Diciamo noi non stiamo dicendo che l'unità c'è ancora, è diretta da Sansoletti, quello come la considera? Io credo che la storia dell'unità, quella che ho raccontato in questo libro, finisca nel 2000 perché finisce l'impasto curioso tra militanza, politica, giornalismo eccetera. Poi ci sono storie successive, la prima è quella del giornale di Colombo e Padellaro nel 2001, la chiusura fu breve. Sono storie diverse, io non sto discutendo se sono più o meno belle, sono certamente diverse e forse qualcuno dovrebbe raccontarle. Roberto Roscani, l'unità, una storia, tante storie. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il suo lavoro, i giornali di domani con Laura Gobetti. Sì, partiamo subito con Repubblica che titola così Fisco, lo Stato si arrende. Il riferimento è alla nuova proposta del governo che vuole rateizzare i debiti fiscali non più a sei ma a dieci anni, questo uno dei tanti provvedimenti previsti. Sul Corriere della Sera invece un'altra questione, quella internazionale che riguarda comunque l'Italia nel Mar Rosso, l'alta tensione con gli Uti, la nave Duilio che abbatte due droni nel Mar Rosso, appunto, ribelli minacciano l'Italia, sta con i nemici. Questioni interne di politica interna invece sul manifesto, il titolo è questo, nomi, cose, città, a nove giorni dal deposito delle liste, il centrosinistra e il 5 Stelle ancora discutono sui nomi, stiamo trattando, dicono, i leader dei due partiti. Invece con la verità parliamo di calcio in un certo senso, parliamo soprattutto di finanza, ipotesi cessione fittizia, questa è l'ipotesi perquisita alla sede del Milan. Chiudiamo invece con una notizia che arriva dagli Stati Uniti, Biden ha vinto in Georgia le primarie e quindi si candida ufficialmente alla corsa alla Casa Bianca, Trump non è ancora ufficiale, lo sarà probabilmente giovedì e dunque la nuova corsa nel 2024 alla Casa Bianca sarà ancora una volta Biden-Trump. Grazie Laura, non resta che ricordare che il 15, 16, 17 marzo tornano nelle piazze italiane le UA di Pasqua a AIL per aiutare la ricerca contro le leucemie, linfomi e mieloma. Per sapere dove trovarle basta andare sul sito ail.it. Poi con una chiamata o sms al 45595 potete sostenere la campagna Sostieni la sua felicità per aiutare bambini e ragazzi con patologie rare e croniche. Ci vediamo martedì. A lei!